Allora, riprendiamo questo evento che è stato lanciato per la prima volta a maggio scorso e sarà un ciclo a partire da oggi, La scuola che vorrei. La scuola è un argomento su cui ci si interroga per varie ragioni ormai quotidianamente, un po' per la cronaca, un po' per come sta cambiando l'istituto scolastico in Italia, la legge e tantissimi aspetti dalla società ad altri campi. Oggi parliamo di un tema di estrema attualità che è la mediazione del conflitto e questo format è stato ideato dalla preside, dalla dirigente scolastico del Dicevo Passoni, Antonella Cardi Benedettini, che è qui e insieme a me condurrà questa giornata. Come l'altra volta, anche oggi inizieremo con un video molto interessante che racconta un po' in sintesi come è cambiata la scuola dalla sua origine fino ad oggi e come dovrebbe essere la scuola moderna, una scuola che risponde realmente alle esigenze di tutti, quindi degli studenti, degli scolari, della comunità educante, dei docenti e tutti quelli che fanno parte di questo istituto. Lascio la parola ad Antonella per inaugurare questa giornata. Grazie Fabrizio. Ringrazio Fabrizio Vespa, giornalista che ci farà appunto da moderatore in questo incontro. Allora, come dicevamo, intanto mi presento due parole. Sono Antonella Cardi Benedettini. Prima di essere dirigente scolastico sono stata insegnante nei tre ordini di scuola del primo ciclo, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Poi come dirigente scolastico nei CIPIA, quindi centri di istruzione per adulti, con annessa la sede carceraria e negli istituti comprensivi e adesso in una scuola secondaria di secondo grado che è appunto liceo artistico Passoni. Prima da docente e poi in questo ruolo e in questi più di 40 anni di vita nella scuola mi sono resa conto e con me e tanti altri, a partire dai ragazzi, dai bambini, dai genitori ma anche da molti docenti appassionati che la scuola ha la necessità di un cambiamento. Di un cambiamento perché rischiamo, parliamo sempre di dispersione scolastica, del rischio di perderci ragazzi per strada perché risultano demotivati, soprattutto quelli più deboli, rischiamo appunto di non riuscire ad essere sufficientemente accattivanti all'interno delle scuole. Abbiamo delle strutture rigide, abbiamo un tempo scuola gestito in modo, anche solo pensando agli intervalli, sembra una cosa banale ma sono stati fatti degli studi, tempo fa una delle scuole delle direzioni didattiche dove sono stata, ha partecipato proprio a questo studio su come la soglia attentiva di bambini, quindi di ragazzi ma anche di noi adulti, a un certo punto cali e come è l'importanza dell'intervallo. Quindi l'importanza di questo tempo che viene considerato all'interno della scuola un tempo morto e che in realtà invece è rigenerante per i ragazzi, per gli adulti per poter gestire le lezioni come noi le stiamo affrontando ma che vanno assolutamente ripensate. Allora partiamo da delle esperienze e i temi affrontati a maggio sono stati molteplici e vista la rispondenza del pubblico, non solo di docenti e di genitori ma vario, abbiamo pensato di riproporre a partire appunto da questo primo appuntamento ognuna delle esperienze proposte in quella sede. Partiamo dalla mediazione dei conflitti, allora tutti quanti naturalmente conosciamo cos'è un conflitto, non sempre riusciamo a risolverlo nella maniera adeguata, ci sono varie esperienze anche in questo campo, in questo settore. Parleremo poi di una sperimentazione nazionale con Giovanni Ghibaudi che conosco da parecchio tempo e che già molti anni fa aveva proposto in una scuola e qui parlerà poi Andrea Fabiano, il mediatore che ha lavorato in una situazione appunto come dicevamo proponendo una sperimentazione un po' casareccia, pionieristica, in cui abbiamo affrontato quello che era il disagio dei ragazzi cercando di dare delle risposte diverse. Ecco siamo qui per interrogarci tutti come si dice ora, come comunità educante, quindi tutti siamo chiamati genitori, insegnanti, ma in primis i bambini e i ragazzi che ci danno sicuramente degli stimoli. Nella giornata di maggio abbiamo sentito anche le voci di bambini che attraverso i loro insegnanti a partire dalla scuola dell'infanzia, ma anche primaria, secondaria di primo grado, ma anche di scuole superiori, ci hanno detto che cosa secondo loro non va nella scuola, cosa andrebbe cambiato? Quindi credo che sia arrivato il momento, soprattutto dopo il covid, che è stato un momento di ripensamento della scuola, a partire dalla didattica abbiamo dovuto affrontare una didattica digitale, abbiamo dovuto cercare di restare agganciati ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, non sempre ci siamo riusciti, molto spesso abbiamo perso per strada i ragazzi più fragili, ma questo momento così doloroso, così tragico può comunque, come tutte le situazioni della vita, diventare un'opportunità di riflessione e di discussione, di una nuova discussione della scuola. Quindi io partirei con il video, che è un video al quale sono particolarmente affezionata, che non ha bisogno di grossi commenti, è un fumetto che ci racconta la trasformazione della scuola. Me l'ha fatto conoscere, devo dirvi, una collega molti anni fa e io lo propongo in tutti i collegi docenti come momento di riflessione collettiva, proprio per capire come ognuno di noi può veramente partecipare ad un cambiamento, ad una innovazione. Quindi direi di far partire il video, grazie. Molti paesi nel mondo stanno riformando il sistema educativo per due motivi. Il primo è di carattere economico. Come facciamo a educare i nostri studenti a trovare il proprio posto nelle economie del ventunesimo secolo? Ma come si fa a fare questo se non sappiamo neanche come sarà l'economia fra due settimane? Il secondo motivo è di carattere culturale. Come facciamo a educare i nostri studenti in modo che abbiano un senso di identità, in modo da mantenere viva la comunità e trasmettere il patrimonio culturale, mentre siamo parte di un processo di globalizzazione? Il problema è che si sta cercando di rispondere a questi due quesiti facendo quello che si faceva in passato, alienando milioni di ragazzi che non vedono motivi validi nell'andare a scuola. Quando noi andavamo a scuola crescevamo con l'idea che se uno lavorava sodo è bene e poi poteva andare all'università e trovare un buon lavoro. I ragazzi di oggi non credono più a questo modello e non si sbagliano del tutto. È vero che è meglio avere una laurea, ma questo non garantisce il fatto di trovare un lavoro, specialmente se il percorso per raggiungerlo ti porta a marginalizzare le cose che tu pensi siano importanti. Si parla così di alzare gli standard, tutti parlano di alzare gli standard, del resto perché bisognerebbe abbassarli. Il punto è che il nostro sistema educativo è stato progettato e pensato per un'epoca diversa. È stato sviluppato nella cultura intellettuale dell'illuminismo e nelle circostanze economiche della prima rivoluzione industriale. Prima del XVIII secolo non c'erano sistemi di educazione pubblica. Al massimo si poteva essere istruiti dai gesuiti se uno fortunatamente aveva i soldi. L'idea di educazione pubblica pagata attraverso le tasse, obbligatoria per tutti e gratis per chi la riceve, è stata un'idea rivoluzionaria e molti erano contrari ad essa, dicendo che non era possibile per i figli delle classi lavoratrici beneficiarne, ritenendoli geneticamente incapaci di leggere e scrivere. Quindi perché spendere tempo su questa utopia? Si tratta di considerazioni che alla base hanno un'idea precisa della struttura sociale piramidale delle capacità. Il sistema di istruzione sviluppato è stato guidato da un imperativo economico di quell'epoca e da un modello cognitivo, quello dell'illuminismo, secondo cui l'intelligenza è basata sul ragionamento deduttivo e sulla conoscenza dei classici, sviluppando così un'abilità di tipo accademico. E questo è nei geni dell'istruzione pubblica, che divide le persone in due tipi di profili, l'accademico e il non accademico, l'intelligente e il non intelligente. La conseguenza è che molte persone brillanti pensano di non esserlo affatto, perché sono state giudicate attraverso questa specifica visione della mente e dell'intelligenza. A mio avviso, questo modello ha causato caos nelle vite di molte persone, per alcuni ha funzionato bene, ma per molti altri no. Coloro che non hanno beneficiato hanno sofferto di una malattia che rappresenta la peste moderna, i disturbi dell'attenzione. Pensiamo un attimo all'arte, la vittima principale di questa mentalità. Le arti si focalizzano su quella che viene definita un'esperienza estetica. Un'esperienza estetica è quella in cui tutti i tuoi sensi stanno operando al massimo, in cui tu sei presente nel momento in cui stai ragionando su questa eccitante esperienza che stai vivendo, quando sei totalmente vivo. Anestetico è quando invece spegni i tuoi sensi e perdi il contatto con ciò che sta succedendo e molti farmaci producono questo risultato. Ebbene, stiamo facendo vivere ai nostri figli la loro istruzione da anestetizzati. Io penso che dovremmo fare l'esatto opposto, non dovremmo metterli a dormire, bensì dovremmo svegliarli, ma il modello che abbiamo è plasmato sugli interessi dell'industrializzazione e sull'immagine di questa. Vi do qualche esempio. La scuola è organizzata sul modello di una linea di fabbrica. Ci sono campane che suonano, spazi divisi per sesso, i bagni, specializzati in diverse materie e gli studenti sono divisi in gruppi basati sull'età. Perché lo facciamo? Perché crediamo che la cosa più importante che i ragazzi hanno in comune è la loro età. Io conosco molti ragazzi che sono più bravi di altri coetanei in certe materie o in certi momenti della giornata, o vanno meglio in piccoli gruppi che in grandi gruppi, o semplicemente da soli. Se sei interessato a un modello educativo, non puoi partire dal modello dell'idea di linea di produzione. È un modello che prevede una crescita standardizzata e conformizzata, come si vede dal crescere dell'utilizzo di test e curricula standard. Io propongo di andare esattamente nella direzione opposta. Questo è quello che per me significa cambiare il paradigma. C'è uno studio sul pensiero divergente. Il pensiero divergente non è la stessa cosa della creatività. Io definisco la creatività come il processo che genera idee originali che hanno un valore. Il pensiero divergente è comunque una capacità essenziale per la creatività. è l'abilità di vedere molteplici risposte ad una medesima domanda. Ci sono dei modi per misurare tutto questo. Ad esempio, un test dice quanti modi diversi ci sono per usare un fermaglio per la carta. La gente normale trova 10 o 15 modi diversi per usarlo e coloro che utilizzano un pensiero divergente possono trovare addirittura 200 risposte e lo fanno chiedendosi, ad esempio, può essere che il fermaglio per la carta è alto 10 cm ed è fatto di schiuma di gomma. Insomma, non deve per forza essere un fermaglio come lo intendiamo normalmente. Questo test è stato fatto a 1500 persone ed è riportato in un libro che si titola Breakpoint and Beyond. Secondo il sistema di valutazione di questo libro, se sei sopra un certo valore, sei considerato un genio del pensiero divergente. La mia domanda è quante delle persone testate hanno superato questo limite? Preciso che le persone sottoposte al test erano bambini della scuola materna. Ebbene, la percentuale era del 98%. Poiché erano studi a lungo termine, hanno ritestato gli stessi bambini 5 anni dopo, tra gli 8 e i 10 anni e poi di nuovo tra i 13 e i 15 anni. Beh, di solito cominci che non sei molto bravo e poi crescendo migliori. Invece, in questo caso, è accaduto esattamente il contrario. Questo studio dimostra quindi due cose. La prima è che tutti abbiamo questa capacità in maniera innata e che nella maggior parte dei casi si deteriora. A questi bambini succedono molte cose in 10 anni, ma la cosa principale è che vanno a scuola e a scuola gli viene detto che c'è una risposta sola che si trova alla fine del libro e che non devono guardare e tantomeno copiare, perché copiare significa imbrogliare. Invece, fuori dalla scuola, questo è chiamato collaborazione. Ciò accade non perché gli insegnanti lo vogliono, ma perché è parte del DNA del sistema scolastico. Dobbiamo cominciare a pensare diversamente a proposito delle capacità umane. Dobbiamo uscire da questo tradizionale modello che divide accademico, non accademico, astratto, teoretico, vocazionale e vederlo per quello che è, ovvero una leggenda. Poi dobbiamo riconoscere che il miglior apprendimento avviene in gruppi e che la collaborazione è un elemento fondamentale della crescita e se atomizziamo le persone, le separiamo e le giudichiamo singolarmente, creiamo una sorta di disgiunzione tra loro e il loro ambiente naturale di apprendimento. Terzo punto è un punto cruciale. La cultura delle nostre scuole intesa come abitudini delle istituzioni e degli habitat che occupano. Bisogna considerare il contesto sociale, politico, economico e culturale in cui esse operano e poi valutarle. È un breve video ma molto intenso, penso, quindi dà dei notevoli spunti di riflessione e soprattutto ogni volta che l'ascolto mi mette un po' di tristezza pensare come nella scuola dove dovremmo lavorare sulle potenzialità dei singoli ragazzi non sempre ci riusciamo e questa creatività viene in qualche modo mortificata. Come dicevamo non per volontà degli insegnanti assolutamente ma è proprio il sistema scuola che va ripensato a partire dalla formazione di tutti i componenti della comunità scolastica. Ebbè è una bella sfida direi, siamo qui proprio per parlarne e per provare a capire come possiamo ognuno nel proprio ruolo e con il proprio contributo far sì che questo avvenga perché pensiamo tutti credo che sia veramente urgente questo cambiamento. Io prima di chiamare il primo ospite sul palco volevo solo fare un piccolo riassunto di come si svolgerà questa iniziativa nel senso che adesso se sentirete un po' di interventi legati appunto alla mediazione del conflitto ma poi ci sarà la presentazione di un libro con Elisa Forte e gli autori Matteo Saudino e Chiara Fuà che è il libro che va rappresentato quest'oggi intitolato Scuolitudine. Dopo la presentazione del libro invece si darà la parola al pubblico quindi ci sarà un momento di confronto, di dibattito per sviluppare ulteriormente in modo condiviso tutti gli elementi che emergeranno durante questi minuti. Quindi chiamerei il primo ospite che è Andrea Fabiano per parlare della mediazione peer to peer. Buongiorno Andrea, ci rivediamo dopo tanti anni. Per non perdere il filo visto che sono un po' emozionato mi sono tracciato dei punti così sono contento di vedervi numerosi, sono contento anche di vedere molti giovani seduti. Mi chiamo Andrea Fabiano, sono di Torino, sono un mediatore dei conflitti, faccio un piccolo riassunto insomma per dare il contesto all'intervento breve che farò. Nasco come educatore professionale, scienze dell'educazione a Torino, indirizzo esperto nei processi formativi. Di fatto poi ho praticato sul campo nell'educazione professionale diciamo come educatore di strada, poi nei servizi educativi. Mi sono appassionato al conflitto. Sapete perché? Perché non sono capace. Ho scoperto che il conflitto non riesco a gestirlo. Riecheggia in me dei vissuti miei personali, familiari, legati al mio passato. E allora come dico sempre a mio figlio quando cresceva mi diceva papà, ma perché secondo te se Batman ha paura dei pipistrelli si veste da pipistrello? E allora io gli dico perché forse quando uno ha paura è meglio che la vesta, così prova a gestirla, ok? Quindi decisi di approfondire il conflitto, quindi di fare una formazione specifica. Ebbi la fortuna di vivere tre situazioni in particolare. Partecipare a un bando in Europa dove passai tra i primi 30 scelti da un'università in Svizzera per formare alla mediazione dei conflitti 30 persone provenienti da tutta Europa, un inglese scadente. Fortunatamente avevamo la traduzione simultanea, altrimenti non avrei passato neanche un esame. Questa cosa mi diede la possibilità di vedere all'estero cosa fanno, cosa fanno gli educatori, i servizi sociali, gli operatori sociali, gli operatori scolastici, come si muovono in Francia, in Spagna, in Portogallo, nel nord Europa. Fu un'esperienza incredibile. Quando tornai ero pieno di entusiasmo, però l'Italia è un paese molto complicato, anche perché noi, anche solo la nostra lingua è molto complicata rispetto alle altre lingue. Noi arricchiamo il nostro vocabolario di aggettivi, di parole, di descrizioni, di sfumature, quindi è molto complicato farsi capire. La comunicazione è molto difficile rispetto ad altre nazioni. Il secondo momento grosso di risvolto della mia esperienza fu entrare nel centro di mediazione di Torino. All'epoca era un periodo in cui ci furono grandi investimenti sulla giustizia riparativa, sulla mediazione comunitaria e familiare. Il centro di mediazione di Torino era un punto di riferimento enorme e ebbi la possibilità di praticare quello che avevo vissuto all'estero, di portare la mia capacità di gestire le cose sul campo e il centro di mediazione all'epoca era il primo e unico riferimento, penso in tutto il nord Italia, che si occupava di giustizia riparativa, di formazione sulle strategie dei conflitti, sulle tecniche per gestire i conflitti. Era un punto di riferimento per le istituzioni, cioè era finanziata dal Comune di Torino e dal Tribunale dei Minori, quindi era una cosa molto seria, era molto ricercata e si poneva nei confronti della cittadinanza come un aiuto, un supporto verso qualunque forma di disagio. Quindi il Tribunale dei Minori mandava dei ragazzi che erano, come dire, al limite del rinvio a giudizio, o erano stati condannati o erano immessa alla prova. Il grosso del lavoro del centro di mediazione era ovviamente legato alle vittime di questi reati, quindi noi accoglievamo le vittime, i ragazzi, in questo modo particolare erano altri giovani minorenni a subire dei reati, violenze, aggressioni, stalking. Quindi una parte consistente del nostro lavoro era quello, ma un'altra parte era quella di offrire un campo perché i ragazzi potessero prendere coscienza del reato che avevano commesso o della situazione in cui si erano infilati. Venivamo contattati dalle scuole tantissimo, abbiamo lavorato anche con le forze dell'ordine, abbiamo lavorato anche come supporto alle forze dell'ordine per capire cosa fare, ad esempio, dopo una rissa, come intervenire in situazioni familiari, conflittuali molto forti, in cui è al limite tra il penale e il sociale. Il supporto che davamo alle scuole era quasi sempre laboratori all'interno delle classi, ci affiancavamo ai consigli di classe, aiutavamo all'interno della classe con dei giochi di ruolo, con delle situazioni simulate per capire come funzionava il gruppo classe o come funzionava il gruppo dei docenti e cercavamo di supportarli anche nel dialogo delle famiglie. Arrivo alla Drovetti. Nell'arco di questo escursus temporale, quindi dal centro di mediazione iniziai a lavorare nel 2004-2005, in quasi dieci anni visitammo moltissime scuole. La Drovetti ci chiamò come tante scuole, ma Drovetti diventò un qualcosa di più, perché non bastavano i laboratori, le formazioni, gli insegnanti, venne proprio la richiesta da parte di un docente, dirigente molto illuminato, di provare a sperimentare una cosa che funziona negli altri paesi, e cioè, ma se facessimo uno sportello di mediazione a scuola? Partimmo con quest'idea, era il febbraio del 2012, quindi dopo un lungo percorso di formazione, di sensibilizzazione ai docenti, iniziamo questa sperimentazione. Io mi staccai dal centro di mediazione, troviamo un finanziamento ad hoc e iniziai a lavorare nella scuola come battitore libero. Perché uno sportello di mediazione e cosa abbiamo fatto? Allora, innanzitutto non era un ufficio dove io ero lì seduto e aspettavo, lo sportello di mediazione ero io con la mia maglietta e il mio zainetto che giravo per i corridoi e venivo chiamato in qualsiasi situazione per disinnescare in prima battuta una situazione conflittuale. Cerco di farvi degli esempi così vi accattivo un po' perché gli esempi pratici sono sempre molto significativi. conflitto, rissa all'interno di una classe, nel bagno, nel corridoio, se ne accorge il bidello, se ne accorge l'insegnante, chiamano Andrea. Andrea arriva, mette in pratica delle tecniche e fa in modo che ci sia un insegnante sempre presente per vedere. Disinneschiamo il conflitto, disinneschiamo quella rissa, non so quanti di voi sanno dividere due ragazzi che si picchiano, ne potremmo parlare per almeno mezz'oretta, si interviene, si calma e si porta il conflitto ad un tavolo, ad un tavolo di lavoro. Io, l'insegnante, il bidello, alla fine dell'ora, alla fine del momento canonico, si riprende poi a freddo la situazione e si cerca di ricucire. Quindi disinneschiamo sul momento, capitava, capitava in classe, capitava in bagno, capitava nel corridoio, capitava in palestra, io ero presente, andavo, mi facevo carico di questa situazione. Supportare questa crisi ad un tavolo di lavoro, quindi vuol dire che successivamente veniva ripresa questa situazione, veniva analizzata e veniva trattata con delle tecniche specifiche perché i ragazzi si predessero l'impegno di non trovarsi più in quella situazione ma soprattutto portassero l'uno, gli altri, gli uni, gli altri, il motivo di quella rissa. Se io vi dicessi e parlo da mediatore penale esperto che un ragazzo che picchia un altro ragazzo c'è sempre un motivo, c'è sempre un fatto, c'è sempre una cronistoria, questa cosa qui apre un ventaglio incredibile. Ci sono gelosie, invidia, antipatie, un fatto che è successo prima che non è stato risolto, c'è sempre un problema di comunicazione. Poi è chiaro, dietro c'è una fatica, una solitudine, una fragilità, ci sono delle famiglie in difficoltà, c'è anche questo. Però nel momento in cui al tavolo di lavoro cerchiamo di ricostruire il tessuto tra questi due ragazzi, vengono fuori tutti i loro aspetti intrinseci che fanno sì che i ragazzi possano vedersi da un altro punto di vista. Succede che il ragazzo affronta un insegnante. Allora, disinnescare la conflittualità sul campo non sarebbe un problema se io, Andrea, sono un allievo, lì c'è il prof a cui do del lei, molto probabilmente alle superiori. Io riconosco in scala gerarchica la valenza e l'autorevolezza, ma anche l'autorità dell'insegnante, non mi permettere mai di fanculare l'insegnante. Se succede questo, il piano è diverso. Si può sempre fare un ottimo lavoro di tessuto tra e di legame, ma è una situazione sfuggita al controllo. Nel momento in cui un insegnante viene affrontato da un allievo che non lo riconosce, è finita. Quindi dobbiamo ricostruire quel rapporto. Quindi queste tecniche di mediazione le usavamo a caldo. Quindi cercavamo di rifraffreddare la situazione. Poi alla fine della giornata lavorativa ci incontravamo con, in questo caso, l'insegnante affrontato e l'allievo ribelle, per costruire un legame tra di loro. Costruire un legame in cui il ragazzo porta qualcosa di sé e si mostra non come quello che ha fanculato l'insegnante, ma come un ragazzo, un soggetto con delle problematiche, con delle paure, con delle ansie. Ma dall'altra parte c'è un insegnante che è anche un genitore, un cittadino, è una persona che ha uno stato emotivo, che ha dei valori, che ha dei principi, che è di lì per fare un lavoro. Ok? Questo approccio, questo tipo di intervento, lo abbiamo posto anche nell'idea di toglierci un attimo, togliere dal campo il discorso delle etichette. Allora, noi siamo sempre stati chiamati come centro di mediazione perché il fenomeno era il bullismo. Quindi io entro, da una parte c'è il bullo, chiamiamolo così, dall'altra parte c'è l'istituzionalizzazione, cioè l'insegnante che rivendica il suo ruolo funzionale e istituzionale viene visto come istituzione totalizzante. Quindi il ragazzo lo percepisce come un burocrate, come una persona rigida, fredda, distaccata. Quindi il primo compito era quello di ammettere che il bullismo è la punta dell'iceberg. Approfondire il gruppo classe. Nel gruppo classe ci sono dei ruoli funzionali, c'è un leader, c'è un leader occulto, c'è un ragazzo con delle problematiche sull'aggressività, ci sono ragazzi depressi che stimolano il ragazzo con l'aggressività. Alla fine c'è un insegnante che perde il controllo della situazione perché non riesce a decifrare tutte queste nozioni. Quello che succede è una classe ingestibile, ingovernabile. Quindi attraverso una serie di tecniche, di giochi, di giochi di ruolo, di simulazioni, cercavamo di dirci la mappa della classe è questa. Abbiamo un leader, un leader occulto, un leader carismatico, una persona potenzialmente attiva e proattiva, l'insegnante è debole su questi aspetti ma è forte su quell'altro, ma l'insegnante insieme a quell'altro insegnante rappresentano un gruppo familiare interessante per contenere quel gruppo classe. Abbiamo sempre trovato che il fatto, il ragazzo che ha dei comportamenti aggressivi è in ugual misura presente come il ragazzo che ha sentimenti depressivi. Facce della stessa medaglia, vi suggerisco di leggere alcuni libri di Daniele Novara di Piacenza dell'Istituto Psicopedagogico perché lo analizza in modo molto forte e questo io l'ho visto, l'ho visto per tanti anni e dopo alla fine dell'intervento vi dirò anche dov'è che lo vedo. Quindi sempre c'è la risposta ad un fatto, la risposta ad una narrazione tra i ragazzi che va a finire poi in un fatto drammatico, c'è sempre un problema di scarsa comunicazione, incomuninaccabilità, cioè un ragazzo non riesce a spiegarsi e un ragazzo non riesce a essere ascoltato. Se vi dicessi che il 90% dei ragazzi definiti tra virgolette bulli nella città di Torino che ho seguito, tutti avevano un disturbo legato all'attenzione, all'apprendimento o avevano un disturbo dislessico non conclamato, non dichiarato, non seguito. Quindi questi ragazzi arrivavano con un tessuto familiare deficitario, fragile, spesso stranieri, con un disturbo che non riuscivano a spiegarsi, l'incapacità di seguire la lezione ed erano una bomba, era una bomba dell'orogeria, ragazzi che si sentivano talmente inadeguati che l'unico modo che avevano per affrontare quell'ineguatezza era quella di agire dei comportamenti per diventare il capobranco, per diventare l'uomo forte, cioè coprivano delle lacune in modo inconscio agendo dei comportamenti che la strada insegna. Oggi spesso nei quartieri il bulo di periferia, quello molto forte che è capace a menare, è rispettato, è temuto, è rispettato e ha una considerazione nella scala sociale. Nei nostri contesti non è così, no? Le aziende, l'area manager, il manager, le persone che hanno competenze, qualità, capacità, vengono vissute come leader. O almeno dovrebbe essere così, ma poi alla fine vi spiegherò. Agivamo attività di giustizia riparativa. Adesso io non vorrei che pensassimo che finiva tutto con una chiacchierata, una stretta di mano. Un ragazzo che picchia un altro, un ragazzo che spacca una vetrina, un ragazzo che fa un culo all'insegnante o peggio, picchia un insegnante, è una cosa da gestire in due modi. Il mio compito era supportare la persona che subiva. Esistono tecniche, esistono prassi, esiste un setting per aiutare chiunque, un adulto o un minore che vive una situazione di questo tipo, ma ci sono situazioni in cui va sanzionato il comportamento. La giustizia riparativa tiene in considerazione tutte e due le realtà. Quella della vittima che non deve più avere paura di affrontare quel ragazzo o quella situazione, quindi deve essere supportato, deve essere liberato da questa angoscia. Dobbiamo lavorare sulla sanzione, perché la sanzione è un modo perché il ragazzo esca dal suo senso di inadeguatezza, agendo un comportamento correttivo che gli permette di rientrare nel gruppo, di rientrare nel gruppo sociale. Quindi ci siamo detti vetrina rotta della scuola, situazione più diffusa, piuttosto che insulto all'insegnante al dirigente. Cosa facciamo? Cinque giorni di espulsione? Quando il ragazzo torna che cosa abbiamo imparato? Cosa succederà? Che il ragazzo tendenzialmente non ha imparato da quella situazione, ha solo imparato che viene visto, c'è l'attenzione su di lui, ha fatto un danno e non c'è stato modo di riparare questo danno con delle attività di pubblica utilità, con delle attività rivolte alla scuola, con delle attività rivolte alle vittime del comportamento che ha fatto. Quindi giustizia riparativa era da intendersi questo. Andrea, siccome il tempo stringe, noi staremo qui ad ascoltarti per tanto tempo. Ho solo più tre punti. No, ma ascolta, più che altro l'esperienza che avevamo fatto, che era stata fatta di peer-to-peer. Fantastico. Ok, quindi capire come il gruppo dei ragazzi era riuscito a supportarsi reciprocamente dopo questo intervento di mediazione, per poi passare dopo a Giovanni Ghibaudi, all'esperienza di mediazione fatta. Allora, gli obiettivi che ci siamo dati in questo lavoro erano, il primo per arrivare poi al secondo, era fornire a un gruppo di insegnanti la possibilità di padroneggiare la comunicazione, la possibilità di afferrare, comprendere, sviscerare, simulare delle situazioni reali di disinnesco del conflitto reale sul momento, quindi tecniche di mediazione, sia a caldo che in momenti invece che definiamo a freddo, cioè con un tavolo di lavoro postumo. Ma il secondo obiettivo fondamentale è stata una ricerca in tutto l'istituto di ragazzi che abbiamo individuato come leader carismatici naturali, attraverso un lavoro abbiamo potenziato le loro capacità con delle tecniche e con delle abilità e abbiamo fatto in modo che in questi ragazzi avessero voci in capitolo, avessero un ruolo carismatico nei confronti dei loro pari, potessero intervenire prima al mio fianco, poi da soli a gestire delle situazioni, si imparavano di ragazzi che erano nell'ombra ma avevano delle spiccate capacità, c'erano ragazzi che erano spiccatamente capaci anche fisicamente ad attirare l'attenzione su di sé, ragazzi che natamente avevano rispetto alla considerazione dei loro coetanei, abbiamo detto formiamo questi ragazzi, facciamo in modo che Andrea faccia attività di progettazione mentre questi ragazzi possono essere durante l'intervallo, durante le lezioni aperte, capaci di portare loro, fare loro delle attività a smussare, ridurre il peso del leader carismatico occulto. Allora un leader chiaro, positivo, ha una valenza molto più forte. vi faccio un esempio, in un conflitto, siamo in cortile, capita un fatto, spesso due ragazzi si puntano per delle ore e poi si picchiano, Andrea dà la garanzia che nessuno si fa male ma i leader intervengono facendo leva sulla presenza degli altri, cioè gli altri del gruppo incoraggiano che si smetta quel livello lì e con delle tecniche e con delle cose, cercando di non colpevolizzare i due ragazzi, non facendoli sentire piccoli, inutili, inadeguati, ma facendoli capire che è successo un qualcosa, vi dobbiamo separare, ci spiegate il vostro punto di vista e poi in un secondo momento ricostruiamo. Se è necessario una sanzione per il comportamento aggressivo oppure no, lo vedremo. Questo era, diciamo, il progetto, l'obiettivo, perché dello sportello, come l'abbiamo gestito, come l'abbiamo integrato, dove volevamo arrivare e quello che volevamo arrivare era dare a tutti i ragazzi e gli insegnanti un metodo. Questo metodo darlo non solo per affrontare situazioni in cui ci sono ragazzi problematici, fragili o conflitti con gli insegnanti, ma siccome io oggi lavoro per l'80% del mio tempo con le aziende, questa capacità di padroneggiare la comunicazione, di gestire le situazioni conflittuali, di padroneggiare delle tecniche, oggi nel mondo delle aziende è il 70% del peso del lavoro. Quindi oggi noi ci chiediamo se voi vi attrezzate, se noi attrezziamo i nostri ragazzi con queste capacità, con queste tecniche, questi ragazzi domani, quando verranno da me, che sono nel mondo delle aziende a gestire gruppi di lavoro, avranno introiettato delle capacità. Quindi, volevamo passare un metodo, volevamo passare un processo, quello della mediazione è quel pensiero creativo, il pensiero divergente, cioè la creatività che pensa, che porta un valore, che ha uno spessore e che può essere utilizzato da chiunque nelle situazioni lavorative in cui è necessario avere un po' di intelligenza emotiva, capacità di gestire conflitti, partecipare a una riunione senza ammazzarsi e creare insieme un valore per produrre ulteriore valore all'azienda per cui si lavora. Spero di avere il preciso. Grazie Andrea Fabiano. Grazie, grazie Andrea. Grazie. Tra l'altro parlando della Drovetti mi ricordo anche un'esperienza che abbiamo vissuto insieme anni fa quando era venuto il pianista Ezio Bosso a incontrare i ragazzi, a suonare per loro, a comunque raccontargli la musica. Ezio non era ancora famoso come poi è diventato e proprio mentre lui raccontava, stava incontrando i ragazzi, si stava per scatenare un inizio di conflitto basato semplicemente sullo scambio di uno sguardo e su uno sfioramento. quindi nessun contatto verbale o nessun contatto violento, nessuna risata, ma stava veramente scoppiando all'improvviso uno scontro fra due ragazzi che erano completamente indifferenti al fatto di essere in mezzo ad altre decine di ragazzi, in mezzo agli insegnanti e di fronte comunque a una persona, come un musicista che gli stava raccontando la sua vita. naturalmente Ezio in qualche modo è riuscito a traghettare la situazione ma con grandissima difficoltà, questo per far capire quanto le dinamiche del conflitto tra i ragazzi, tra i giovani hanno veramente dei codici, delle dinamiche molto complesse che non sono sicuramente rapportabili a quelle dei più adulti che anche quelle naturalmente avranno le loro regole di ingaggio, però parliamo veramente di un mondo molto spesso difficile da decifrare e da gestire. Però è riuscito a parlare ai ragazzi parlando delle loro emozioni, quindi dicendo guarda che questo ragazzo sta ridendo non perché ti sta prendendo in giro, perché tu hai una certa fisicità, l'altro ragazzo era grande e grosso, lui era piuttosto piccolo e quindi probabilmente gli fai paura, quindi li ha portati su un piano di emotività e di empatia. Io l'ho apprezzato tantissimo perché oltre alla sua bella musica ci aveva passato questo bellissimo messaggio. Passiamo ad un altro ospite che era già stato con noi qua al circolo per il primo incontro di maggio, quindi Giovanni Ghibaudi, mediatore scolastico, educativo e penale che tra l'altro parlerà anche dell'esperienza francese legata a questo tema. Io sto in piedi perché non sono abituato a stare seduto. Qualcosa ha già detto Fabiano perché ha fatto parte dell'equip che ho gestito per 30 anni come responsabile del centro mediazione penale minorile di Torino che continua nel primo centro a livello nazionale. Dopo di noi negli anni successivi, siamo a metà degli anni 90, sviluppo a livello nazionale. Forse non si sente, ti lascio questo qua. Oggi ci sono qualcosa come una quarantina di centri di giustizia riparativa sparsi sul territorio nazionale che sono in collegamento col Ministero della Giustizia. Però oggi non parliamo della mediazione penale, parliamo della gestione dei conflitti e della mediazione in sé, nell'ambito più sociale che è quello della… la scuola fa parte della società, quindi fa parte della società e fa parte della comunità. La società è quella parte che è dedicata a costruire le regole, a definire le regole, a gestire le regole. Sono le figure di riferimento, sono i parlamentari perché sono quelli che legiferano, sono gli esperti che si occupano di determinati temi, sono i giudici, sono gli avvocati, sono gli insegnanti. Chi gestisce un'istituzione, chi la gestisce in modo concreto, che ha le sue regole di riferimento. Però quella è la società, la comunità si basa sulla relazione e fondamentalmente si crea sulla relazione. Il primo manifesto europeo che parla di mediazione sociale nasce a Cretei, che è una cittadina nella Bagno Sud di Parigi, nel 2001. A settembre 2001 ci raduniamo 50 mediatori europei sotto la direzione di una professoressa dell'Università Sorbona a ragionare su che cosa poteva essere, su mandato del Parlamento europeo, come si poteva definire la mediazione sociale e in che cosa consisteva. Siamo partiti sempre dalla relazione, ma pensando che la mediazione, la gestione dei conflitti è finalizzata alla ricostruzione dei legami sociali, che sono o inclinati o rotti da quello che è il conflitto tra le persone, un conflitto che nasce il più delle volte da qualcosa che non conosciamo. L'occhio ci fa vedere più delle volte ciò che inconsciamente decidiamo di vedere, non ciò che accade. E allora dobbiamo lavorare sull'apparenza per riuscire a rendere dicibile ciò che è indicibile da parte dei protagonisti, perché sanno che non vengono ascoltati, ascoltati in modo empatico. È lì che ci sta la grossa costruzione, no? Costruire quei meccanismi, quegli strumenti che permettono a chi gestisce qualsiasi realtà, che sia istituzionale ma che sia anche informale, la relazione tra le persone. Ed è fondamentale questo, perché richiede molta attenzione, richiede molta preparazione su questo versante qua. Intanto un termine che ha già usato prima Andrea, il non giudizio. Non si parte dal giudizio, si parte dal non giudizio, perché se voglio capire cosa è successo in quell'episodio, in quell'evento, devo partire dal non giudizio, perché la persona che mi sta davanti, intanto si confronta, soprattutto gli studenti si confrontano con un adulto, ma quella persona non è un giudice, non è un assistente sociale, non è un educatore, non è uno psicologo, uno psicoterapeuta, è un mediatore. È una persona che ha imparato a gestire i conflitti lavorando sulla relazione fra le persone. Ma la relazione è composta da tre elementi fondamentali. Il non verbale, il sorriso che fa scatenare la rissa, l'aver sfiorato la mia compagna che fa scatenare quell'insieme di reazioni che poi portano magari a due persone a picchiarsi. In questo aiutate da un contesto che le incita a picchiarsi. Poi c'è il verbale in sé per sé, ma quello richiede di essere ascoltato, richiede che il dialogo che avviene tra le persone sia un dialogo empatico, non un duologo. È una cosa completamente diversa. Il dialogo comporta il fatto che due persone, dia, si parlino, logos, la parola, usino la parola per parlarsi, per incontrarsi, per riconoscersi vicendevolmente rispetto a ciò che hanno agito o a ciò che hanno subito in quel conflitto, che non deve essere prettamente di carattere giuridico o una ricaduta giuridica perché entra nel penale. È un conflitto che riguarda la relazione tra le persone ed è un conflitto che riguarda la relazione tra pari, la relazione tra allievi e adulti. Adulti perché così intendiamo tutti, insegnanti, dirigenti, genitori, qualsiasi adulto che si raffronta con loro. E poi c'è il paraverbale, il modo con cui parliamo. Perché una cosa è aggredire verbalmente una persona col tono, col tono di voce. Una cosa è portare quel livello, farlo decantare anche solo con le parole. Perché dà il significato, guarda, ti sto ascoltando, sono attento a ciò che tu mi dici. Ed ecco perché negli anni, noi siamo partiti, è vero come campo di applicazione era il penale, perché nasceva da quella che era l'applicazione della grande riforma del 1988 del processo penale minorile, minorile il decreto del Presidente della Repubblica 448 dell'88, che ha rivoluzionato la risposta penale creando tutta una serie di possibilità. Ha dato spazio alla creatività, alla possibilità di andare a studiare via, sentieri differenti di risposta. Quando lavoriamo sui conflitti possiamo lavorare su dei campi immensi che sono percorsi da sentieri che vanno esplorati, perché non sono ancora stati esplorati da nessuno rispetto a quell'evento lì e che mi possono portare a inventare una risposta differente. Perché mi danno anche l'impressione che dietro quello schiaffo, dietro quel sorrisino beffardo, dietro quel silenzio, quel silenzio, silenzio è una cosa che è fondamentale nel dialogo. Di solito non abbiamo paura, ma il silenzio è, come ci diceva una delle nostre formatrici è il linguaggio dell'anima, però è importante. Allora devi lavorare su questi aspetti qua per aprire quel dialogo che è fondamentale per decantare il conflitto e trovare poi invece le strade per, passando dai vissuti, portano a quello che è la soluzione. negli anni abbiamo poi pensato che questo tipo di intervento si poteva portare in diversi campi del sociale, uno di questi campi è la scuola. Ecco perché quando Antonella ci ha chiamati rispetto ad alcuni episodi che erano successi alla Dorette abbiamo cominciato a lavorare con la Dorette, ma non era il primo intervento che facevamo. Negli anni abbiamo imparato a modificare il tipo di interventi. E siamo arrivati l'anno scorso a questo percorso che è stato finanziato dall'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza di Roma a livello nazionale su 11 scuole sparse sul territorio nazionale. Per il Piemonte c'era il Passoni, poi c'era scuole della Lombardia, scuole dell'Emilia, scuole della Lazio, scuole della Puglia, scuole della Campania, scuole della Sardegna e della Sicilia. Quindi sono scuole che sono su tutto il territorio e con le quali si è lavorato per portare questa idea della mediazione gestita all'interno delle scuole da quelle che sono le componenti delle scuole. In primis gli studenti, quindi abbiamo fatto un percorso di formazione con gli studenti in modo che cominciassero a entrare. È un primo passo, perché poi la formazione invece è una formazione che richiede molto lavoro. Abbiamo lavorato anni noi per arrivare ad acquisire un minimo di strumentazione adeguata e abbiamo lavorato con i nostri formatori, io ho lavorato con i formatori francesi perché c'erano loro, in Italia non esisteva nulla, ci siamo formati con i francesi perché erano quelli che in quel momento stavano applicando di più certe tecniche, hanno lavorato su di noi. Abbiamo dovuto imparare a non giudicare perché non ce ne rendiamo conto quando giudichiamo, perché diciamo delle cose ma dietro quelle frasi non ci rendiamo conto che c'è nascosto un giudizio e chi riceve quella frase sente il giudizio. Quindi c'è un grosso lavoro da fare. Abbiamo lavorato con la componente insegnanti, genitori che saranno presenti qua oggi e che ci riporteranno la loro esperienza e ATA perché sono tutti i componenti della scuola ed è importante perché poi da quest'anno con la nostra supervisione sicuramente la diamo perché siamo ben contenti di farlo, lo facciamo a livello europeo perché non possiamo farlo a Torino, interverremo con uno sportello di mediazione all'interno del Passoni che diventa fondamentale. Ma non è una novità questa qua. Nel 2008 le scuole superiori di Verbagna avevano già adottato un sistema simile, solo le scuole superiori e ci fu un grosso convegno nell'autunno del 2008, interessantissimo, gestito dagli studenti stessi, quell'epoca lì. Ma in Europa, si parla da molto prima, la prima volta che io ho conosciuto un intervento strutturale all'interno delle scuole di una città è stato nel 2006 a Pierfitte-sur-Seine, a Parigi, Valle Nord di Parigi, dove un'associazione che si occupa di gestione dei conflitti, in accordo con l'amministrazione comunale, perché è stato finanziato, e in accordo con quelli che sono i collegi presenti, la struttura scolastica francese è un po' diversa dalla nostra, però in accordo con i collegi presenti sul territorio di Pierfitte, decidono di cambiare il regolamento, quello che per noi sarebbe il regolamento di istituto. Eliminiamo la parola punizione, introduciamo la parola mediazione, con tutto un lavoro anche lì di formazione, di intervento, sensibilizzazione continua. Le fil rouge ci racconta Ibat, il presidente dell'AFPAD di questa associazione, le fil rouge che continua negli anni ancora oggi, ogni tanto io torno a Pierfitte un po' perché c'è una grossa legame che ci ha sostenuto in questi anni rispetto alla riflessione sulle cose da fare, ma c'è un filo rosso che continua perché quella scelta fatta nel 2006 oggi è ancora valida, ritenuta estremamente importante, perché aiuta a gestire in modo diverso i conflitti e aiuta a gestire in modo diverso le risposte che noi adulti, assieme alla componente studentesca, assieme alla componente genitoriale, possiamo dare. E su questo sarà la grossa scommessa che la scuola italiana si trova a dover affrontare. Ma questo avviene anche a San Canten, San Canten è una cittadina che c'è verso Calais. Ne parlavo giusto qualche sera fa in un webinar europeo con il presidente del centro di mediazione di San Canten. Il comune di San Canten ha deciso che introduceva la mediazione sociale all'interno di tutte le istituzioni, non solo le scuole, tutte le istituzioni amministrative della gestione della città. Questo vuol dire leggere in modo intelligente quello che può essere una risposta che va verso una prevenzione. Noi abbiamo dimenticato cosa vuol dire prevenzione. Anche questo governo non parla di prevenzione, ci parla sempre solo di aumento delle pene, ma le punizioni, le pene non servono a nessuno, non hanno nessun significato per come è impostato oggi. Bisogna smetterla di pensare a quello. E la grossa scommessa è proprio quella, ma se nasce all'interno delle scuole, nasce all'interno di un tessuto culturale che va formandosi e che vede tra i protagonisti gli adulti del futuro. Non è rivolto al passato, è rivolto al futuro la prevenzione. Ed è fondamentale. Siamo qua perché sennò puoi diventare noioso. Grazie Giovanni. Abbiamo Leonzio e il professor Leonzio Gobbi che è il referente di questo progetto all'interno della scuola Passoni che come ci ricordava Giovanni Ghibaudi ha visto anche la componente ATA, quindi collaboratori scolastici e assistenti amministrativi. I nostri ragazzi, i nostri genitori, i nostri docenti che sono in sala e che dopo interverranno. Grazie mille. Anch'io ringrazio di essere qui. Sono onorato. Premetto subito a Matteo Saudino e Chiara Fa non spaventatevi perché quella lista è drammatica. Come faremo? C'è un livello di attenzione per tutto, quindi cercherò proprio di sintetizzare al massimo. Poi il loro libro è splendido, l'ho letto ieri sera e ne parleranno loro dopo. Allora, io mi chiamo Leonzio Gobbi, insegno a Liceo Passoni e sono qui in veste di futuro mediatore. Non riesco quasi a rendermene conto, ma abbiamo avuto un anno di formazione con Giovanni e la cooperativa davvero straordinari. Loro li avete sentiti e quindi siamo entrati in questo mondo e nel mondo della mediazione. Tutto ciò che è stato detto è assolutamente incredibilmente giusto, condivisibile e di grandissimo insegnamento. Un progetto straordinario perché ha coinvolto per una volta tutta la comunità scolastica in un unicum. Comunità scolastica non solo fatta da insegnanti allievi, ma c'è appunto il personale che ci lavora, un personale che si spende ogni giorno per risolvere problematiche varie importantissime. Ci sono i genitori dietro i ragazzi, gli insegnanti lavorano con i genitori, almeno dovrebbero lavorare ogni giorno per accogliere i ragazzi, chiedere loro che cosa hanno fatto, com'è andata. La risposta è sempre tutto bene, tutto bene, non ti preoccupare, ma invece questo progetto ci ha visti lavorare tutti insieme. Non siamo abituati, non siamo abituati perché facciamo gli insegnanti, loro sono gli allievi, ognuno di noi come diceva Pirandella ha una maschera, insomma beste ed è giusto anche che sia in un ambiente lavorativo, ma essere mediatori significa appunto invece levare questa maschera, cioè per una volta la mediazione può entrare nella vita di tutti noi, nella vita degli insegnanti, nella vita dei genitori, del personale, ma anche specialmente anche dei ragazzi. Che cosa significa volere una scuola, la scuola che vorrei? Abbiamo visto all'inizio un video meraviglioso, cioè tra l'altro ho invidiato questa mano, mamma mia come si fa ad essere così bravi, ma veramente il concetto è straordinario, è talmente bello che quasi lascia un po' di angoscia, un po' di ansia, dice sì vorremmo fare tutto questo, ma come facciamo a farlo? Beh io ho una mia idea di scuola, ogni volta che barco la soglia dell'aula entro con me in una sala operatoria, mi faccio proprio prima un momento di concentrazione perché so di avere a che fare con quella che è la società del futuro. Questi ragazzini dipendono al di là dei contenuti, io insegno italiano, una meraviglia, la letteratura italiana, imparare a comunicare, imparare la nostra lingua, imparare anche a fare delle pause, tutti i tratti sopra segmentali, ma tutto ciò può avvenire se si vive in uno stato di armonia, di rispetto reciproco, i ragazzi ascoltano gli insegnanti, ma gli insegnanti imparano dai ragazzi, è una scuola che già non funziona perché i ragazzi sono seduti esattamente così come siete voi, si guardano tutti le spalle e l'insegnante guarda loro, tante cose andrebbero riviste dai programmi, dalla disposizione, ma ripeto la base è creare questo clima di serenità. Loro comprendono l'autorevolezza, noi entriamo in classe e si alzano in piedi e la prima cosa che chiedo loro è buongiorno professore alzatevi in piedi e poi dico grazie seduti, ma è un gesto reciproco come di quasi di iniziazione e inizia il nostro percorso insieme, ma questo avviene se c'è tranquillità, se c'è serenità, se c'è armonia, così come la comunicazione, riusciamo a parlare se siamo sereni, se siamo tesi, siamo agitati, non riusciamo a parlare, ci blocchiamo. Immaginate i ragazzi alle interrogazioni, tutti pieni di contenuti in mente, il professore di fronte a questa scuola va cambiata in questo senso, bisogna porsi degli obiettivi, è tutto giusto avere dei programmi, lavorare, sodo per raggiungere gli obiettivi, ma bisogna sempre di più favorire questo clima di armonia e questo può avvenire attraverso la mediazione, quindi grazie alla dirigente, grazie all'autorità Carante, la Carla Garlatti e a tutti coloro che ci hanno permesso di iniziare questo percorso, perché come diceva Giustante Giovanni adesso viene il bello, noi abbiamo ricevuto questo momento di formazione, ma dobbiamo metterlo in pratica. Per stringere i tempi io vorrei che velocemente, forse mi avvicino a loro col microfono per evitare, li facciamo venire tutti su, tu via, tutti via, tutti sul palco, tutti via. Io ve li presento, prego salite, allora loro sono i ragazzi, anche alcuni ex miei allievi, che bello averli qui vicino, vedete una conferenza insieme, ma com'è, è una meraviglia, però dobbiamo cercare di non cadere dal palco perché può essere, ecco, allora, le mamme, gli insegnanti, un'altra collega, le mamme, allora, stringiamo i tempi, cerchiamo di essere sintetici. I ragazzi hanno preparato in occasione di un evento che ha visto tutte le sedici scuole, perché questo programma è un programma, è un progetto, voglio dire, nazionale, i ragazzi hanno preparato una presentazione, partendo da uno spunto, cioè l'indirizzo del nostro liceo e l'indirizzo della moda, hanno immaginato delle figure disegnate, tra l'altro, da loro e quindi hanno immaginato questo conflitto che può avvenire assolutamente all'interno di una comunità scolastica. Quindi io direi, chi se la sente, di presentare queste slide e far capire al pubblico il vostro lavoro e quindi sottolineare quanto sia importante la mediazione e quali sono, diciamo, i punti cardini. Via, presentati, nome. Mi chiamo Andrea Corrado Corrias, che non hanno scritto, e sono uno studente di due licei. Sono stato prima un classico, al Gioberti, ma ho deciso di cambiare appunto all'artista. Non mi dilungherò su questo. Prima di presentare questo lascerò la parola infatti ai miei compagni, presenteranno loro meglio questo. Vorrei fare un piccolo preambulo su noi studenti. Sul fatto che noi in questo progetto, appunto, non ci siano solo professori, ma anche il personale della scuola. Ci siano anche gli studenti che sono una parte fondamentale. Noi come studenti, infatti, abbiamo, come potrei dire, siamo più vicini alla situazione, perché come mediatori, ad esempio, ci può capitare molto più facilmente di essere anche coinvolti nelle situazioni che accadono di conflitti. Ad esempio, magari io, mediatore, potrebbe accadere che un conflitto scoppiasse tra studenti o tra un professore o uno studente, eccetera, eccetera, nella mia stessa classe, e io potrei anche essere coinvolto. Comunque io come mediatore, anche se non sono direttamente coinvolto, conosco già la dinamica. Noi come studenti, quindi, ci permette anche di vedere la scuola in un modo diverso, più globale, sia per vedere i professori non come meri burocrati o trasmettitori di informazioni e basta, ma anche come proprio esseri umani. Grazie, grazie davvero, grazie, grazie. Siamo umani, siamo umani. Bravo, grazie, una bella testimonianza. E quindi noi come studenti possiamo vedere e renderci conto di realtà che magari noi non ci curiamo, delle quali assolutamente magari non pensavamo nemmeno esistessero, o approfondirle, per così dire. Molto bene, Andrea, grazie davvero. Detto questo, lascio la parola ai miei clienti. Prima premessa, allora, chi presenta di voi queste slide? Velocemente, quindi voi avete realizzato... Allora, noi abbiamo fatto realizzare dai nostri ragazzi dell'indirizzo... Sono Federico Appendino. Bravo, bravo, dai. Noi abbiamo fatto realizzare dai nostri ragazzi dell'indirizzo di moda dei modellini che identificano la nostra presentazione che abbiamo realizzato in merito a questa giornata e abbiamo creato un'ipotetica classe... Allora, intanto, procediamo. Informazione e sensibilizzazione, perché? È giusto informare... È giusto informare tutta la scuola, tutti voi, di questo progetto, perché noi abbiamo partecipato, però poi era anche la fine dello scorso anno, adesso inizia l'anno nuovo, non tutti gli studenti sono al corrente e conoscono quanto sia importante la mediazione. Eccoci qua, quello che dicevi prima. Allora, abbiamo le tre parole fondamentali della mediazione, sono consensualità, non giudizio e riservatezza. Consensualità, qualunque persona che è in conflitto e è richiesto di entrare nella mediazione può richiedere quando vuole di smettere, dirà semplicemente un no e noi ci fermeremo col colloquio. Il non giudizio sarà un colloquio a ascolto empatico, quindi cercheremo di ascoltare e assorbire le emozioni delle due persone in conflitto e la riservatezza che entrambi... E la riservatezza perché sono informazioni riservate. Grande Federico. Mi emoziona sentire Federico l'anno scorso, due anni fa l'ho avuto come allievo in classe e non riusciva quasi, timidissimo, adesso è qui col microfono, vorrei un applauso, scusate, però se lo merita, se lo merita. Passa il microfono, grazie. Io sono Viviana Stanciu e parlerò della slide sul conflitto. Questa è una scena ipotetica di conflitto fatta con i modellini di moda. Ecco, li avete disegnati dai ragazzi. Esatto, perché comunque la nostra scuola è caratteristica per avere l'indirizzo di moda. Vogliamo dire che la nostra scuola non è così come si vede nello sfondo, ma non importa. No, in realtà no, felponi, fantogliari. È molto meglio, dai. Via, no, tu smettila. Ricchietta d'aiuto. È importantissima come parte per appunto, diciamo, chiamarci per un aiuto. Appunto, pensavamo di mettere una scatola in cui una persona inserisce il bigliettino, poi viene contattata e la porteremo in un'aula assolutamente neutra, tranquilla, un posto sicuro in cui ci può raccontare la problematica. Questi sono degli schizzi fatti dalla professoressa Iemulo che insegna moda nella nostra scuola ed è una scatola vestito. Abbiamo scelto di praticamente creare questo abito con delle tasche in cui la persona che chiede aiuto può mettere il bigliettino e metterli nei corridoi di ogni sede possibilmente. Benissimo. Andiamo avanti. C'è la parte del colloquio. Allora, il colloquio verrà svolto all'interno di una stanza della nostra scuola, alibita apposta, in una stanza che deve essere tranquilla, serena. Durante il colloquio appunto verrà cercato di assorbire e di capire le emozioni di... Di coloro che appunto chiedono aiuto. Ok. Il consenso è il momento in cui... E lo spazio che le persone hanno. È anche il momento in cui la persona che aderisce al momento di mediazione pensa, riflette, se partecipare. Quindi deve essere assolutamente un gesto spontaneo. Sì, non il momento in cui lei vuole smettere. Vuole interrompere e può interrompere. L'abbiamo detto benissimo. Parole chiave. Le parole chiave della consensualità sono pazienza, delicatezza, tranquillità che abbiamo scelto noi in merito... Benissimo. E poi lo sviluppo della mediazione. Lo sviluppo della mediazione, anche questa è una fase molto importante, ovvero noi diamo la scelta libera se procedere o no, come già detto. Diciamo che è tutto molto libero, quindi la persona può scegliere se affrontare, tra virgolette ovviamente, l'altra persona, se risolvere, se lasciare così la situazione e tutto dalla persona. Bene. Risoluzione del conflitto, ecco qui. Ecco, qua c'è un'ipotetica scena di risoluzione, in cui le due persone arrivano a un compromesso, in modo assolutamente pacifico e non punitivo, come appunto è la base della mediazione. Diciamo che si spera di arrivare a questi risultati. Ovviamente non è purtroppo sempre così, però noi cercheremo di fare del nostro meglio per creare un clima pacifico. Brava, eccezionale, bravissimi. Il nostro logo disegnato dai ragazzi. Questo è il nostro logo che abbiamo disegnato insieme. Bene. Ascoltando le tue emozioni. Un puzzle e si cerca di ricomporre l'immagine di due persone che si abbracciano, i nostri nomi. Sullo sfondo i nostri nomi vorrei proprio in maniera rapida chi se la sente di dire una parola. Un genitore, per esempio, che è proprio l'emozione provata in questo percorso di conflitto. Allora, buonasera a tutti, io sono Edilia Albertengo, una mamma, ma io sarò velocissima. Secondo me questa è un'opportunità. Quindi il conflitto io proprio la vivo come un'opportunità di mettere in gioco me come donna e poi anche come mamma. Mi è successo anche in casa di riflettere un pochettino di più e di cercare di non essere giudicante. Che secondo me la cosa più bella di tutto questo percorso è imparare il non giudizio. Che ci aiuta sia nel quotidiano, sia come genitori e soprattutto come persone. Grazie, bravissimi. Vuoi dire qualcosa? Che cosa? Presentiamo, dite solo i vostri nomi. Io sono Arianna Ferrara, io sono Vittoria Naia e Milena Statilio, un'altra professoressa, collega. Io sono Balma Sabrina e insegno scienze motorie. Io ho deciso di fare questo progetto perché non so come mai, ma quando io lavoro in palestra vengono sempre da me, quando hanno problemi, quando hanno qualcosa che non va, quindi sembra come se fossi una mamma, che ne so, vengono tutti da me. Allora ho pensato di fare questo progetto perché sicuramente mi avrebbe dato delle possibilità per aiutare i ragazzi. Poi siccome io ho anche tre figli, ho pensato che questa cosa si poteva anche allargare alla vita di tutti i giorni. E quindi sono molto contenta di partecipare a questo progetto. Grazie, ottimo. Direi un'altra mamma. Io sono Betty Bacchio, sono una mamma. Vorrei portare un mio pensiero personale a questo progetto che l'ho trovato bellissimo. Abbiamo, prima la formazione è stata fatta ai ragazzi al mattino e tutto il nostro gruppo al pomeriggio, poi abbiamo avuto un momento invece dei giorni di formazione tutti insieme. E vedere come la scuola può diventare veramente collaborativa, tutti insieme, non vedendo i genitori, la famiglia, la scuola, i ragazzi, ma eravamo veramente tutti insieme a cercare di creare qualcosa di nuovo all'interno della scuola dove è molto importante lavorare sui conflitti. I conflitti possono nascere anche tra genitori e insegnanti, tra genitori e genitori, genitori e ragazzi. Anche tra genitori e genitori possiamo vedere che cosa viene fuori durante le chat, eccetera. Quindi è stato molto bello staccarsi da un ruolo e invece vederci come scuola unita e collaborativa a tutti i livelli. Grazie, grazie Betty, grazie a tutti voi. Mi preme andare avanti perché non siamo gli unici e quindi lasciare poi la parola a loro. Grazie di cuore, arrivederci. Grazie, grazie ragazzi, grazie al professor Gobbi, ai genitori. L'obiettivo di questi incontri è quello di coinvolgere tutta la comunità educante, quindi abbiamo sentito i ragazzi, i professori, i genitori e adesso prima della presentazione del libro diamo la parola anche a due collaboratori scolastici, quindi chiamerei Emilia e Vincenzo. Allora, spiego al gruppo, siccome come spesso capita nelle scuole, quando noi prepariamo un gruppo, quando formiamo un gruppo, come in questo caso, la componente atta, essendo precaria, ha cambiato scuola, quindi non sono più presenti. Però parlando di questo progetto, se Emilia e Vincenzo, che è il secondo anno che sono a nostra scuola, lo hanno reputato interessante e vorrebbero partecipare. Avevano piacere di dire proprio il loro pensiero in modo molto sintetico. Buonasera a tutti, noi siamo i collaboratori del Passoni e niente, noi siamo emozionati, molto emozionati e niente, siamo felici comunque di far parte di questa scuola, comunque di aiutare i nostri ragazzi, entriamo sempre molto in empatia con loro e cerchiamo di aiutarli in tutti i modi. Il collaboratore scolastico Bidello, come si chiamava una volta, è una figura molto importante perché, come dice Emilia in questo momento e come magari ci dirà anche Vincenzo, sono dei punti di riferimento importantissimi nella giornata scolastica e spesso, purtroppo, non si dà così importanza a questo ruolo. In realtà, oltre a mantenerci la scuola pulita, accogliente, sono veramente dei grossissimi punti di riferimento perché i ragazzi molto spesso vanno da loro e raccontano quelle che sono le loro emozioni, quelli che sono i loro vissuti e quindi formarli sulla mediazione è fondamentale. Vincenzo, ci vuoi dire qualcosa? Buonasera, sono Vincenzo Gallo, sono il collaboratore scolastico del Liceo Artistico Passoni. È stato già detto tutto, praticamente. Noi comunque cercheremo sempre di aiutare tutti i ragazzi. Infatti, come diceva Pocanzi la Preside, i ragazzi si rivolgono tanto a noi e noi siamo qui per ascoltarli, per aiutarli, quindi faremo del nostro meglio per arrivare, diciamo, a... E vi ringraziamo. Grazie. Grazie di questa disponibilità. Volevo dire che il personale ATA non è un punto di riferimento solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti, fondamentali per i professori. Ci accolgono, ci sorridono, rispondono a tutte le nostre domande dalle più surreali alle più realistiche perché ogni tanto arriviamo un po' smarriti, un po' dove è l'aula, dove è lo studente, cosa è successo, cosa dobbiamo fare. E sono dei fari e sono sempre disponibili, sempre gentili e pazienti. Quindi è molto importante per noi, vero? E competenti. Grazie. Voglio solo far presente che mediatori, possiamo diventarlo tutti? Quello di sicuro, sono troppo pochi, quello sì. Però mediatori... E non è qui la sede per... Mediatori, si può diventare mediatori tutti? Non c'è richiesta una laurea, un particolare... Si deve seguire la formazione come mediatori. A livello europeo, come associazione CREA, è un'associazione che è nata dal lavoro di 250 mediatori europei sparsi in sette stati europei differenti. Stiamo lavorando per la costruzione dell'università popolare per i mediatori che devono lavorare per l'inclusione sociale. E questo speriamo nell'arco di un paio d'anni di poterlo realizzare. Grazie. Allora, adesso veniamo al momento molto atteso, la presentazione del libro di Matteo Saudino e Chiara Foa, quindi chiamo sul palco Elisa Forte che condurrà la presentazione del libro e lascio il palco ai nostri ospiti. Grazie. Bene, bene, buonasera, buonasera a tutte e tutti. Abbiamo veramente ben trovati. Abbiamo parlato, cari prof, di svolte necessarie, abbiamo parlato di svolte rivoluzionarie, ma anche di svolte di speranza. Abbiamo visto una buona prassi e siamo davvero felici di pensare che ci sono scuole che prendono in carico gli studenti a tutto tondo, che poi è l'essenza della scuola che fanno i due prof che abbiamo qui, Chiara Foa e Matteo Saudino. Grazie, buonasera a tutte e tutti. Buonasera. Io vorrei un Andrea Fabiano e anche un Giovanni Ghibaudi in tutte le scuole. Sinceramente penso che se stasera c'è una dirigente in più, una docente che lo adotta o comunque adotta il modello, noi veramente abbiamo iniziato con il piede giusto. Dico abbiamo iniziato, io sono solo una piccola parte di questa grande, bella avventura, questo viaggio che è stato ideato già dallo scorso anno dalla dirigente, l'abbiamo vista, quanta energia, Antonella Cardi Benedettini. Lei è l'anima di questo percorso, la scuola che vorrei, il motore e il collega Fabrizio Vespa. Farei a tutte e due un applauso perché l'abbiamo fatto per tutti, ma non l'abbiamo fatto per loro. Allora, quando Antonella ha deciso che il tema era la mediazione dei conflitti, io che non ho pensato che a voi. Perché? Ecco, ho avuto la fortuna di presentare il libro di questi due bravissimi prof, di questi due autori in Puglia a fine agosto. È stato un grande successo e ho pensato che anche in questo contesto, su questo tema, in questo inizio viaggio a Torino, Squalitudine può essere considerato un manifesto dell'accoglienza. perché in effetti man mano che noi andremo avanti vedremo che in questo libro sono storie di sette ragazze e ragazzi con una modalità molto bella che è quella di uno scambio lettere tra i due autori e sono storie di accoglienza di bisogni estremi. Sono storie che vanno trattate con molta delicatezza e che in qualche modo portano poi sempre ad una speranza e anche ad una mediazione. Quindi ho pensato che il tema, il filo conduttore, sicuramente lo ritroviamo anche nel vostro libro. Prima di iniziare, prima di parlare del libro, io volevo chiedervi, proprio alla luce di quello che abbiamo ascoltato, qual è secondo voi, inizio da Chiara Foa, il principale diritto negato dalla scuola italiana ai nostri figli o ad alcuni dei nostri figli? Alla luce ecco del dibattito fatto oggi. Grazie Elisa, non so se mi si sente, sì si sente il microfono. Intanto io volevo dire che sono emozionata, però volevo anche spiegarvi perché a parte essere in questo bellissimo luogo sono emozionata perché siamo qui tutti a parlare di scuola, vuol dire che ci teniamo in qualche modo e a me fa sempre effetto perché spesso mi accorgo che nella scuola si parli poco di scuola e si parla poco di cosa si può fare per i ragazzi e l'idea mia di Matteo è appunto che c'è una necessità stringente di cambiarla questa scuola. Ho sentito tutti gli interventi, penso che ciò che ci accomuna è proprio la volontà precisa di cambiarla. Secondo noi la scuola pubblica può essere un luogo ancora importantissimo che però si trova un po' ad un bivio perché non ritrova la propria identità, sta perdendo un po' il suo ruolo di appunto comunità educante e quindi ho paura che per rispondere alla tua domanda quello che sta perdendo è un po' il suo essere fantastico luogo di incontro democratico e se si perde quello si perde secondo me il senso di scuola come luogo di incontro e di accoglienza e devo anche dire che negli ultimi tempi ho notato che più si parla di comunità accogliente e meno c'è la comunità accogliente ed è bellissimo che si possa provare a farlo indipendentemente da riforme scolastiche da dirigenti perché purtroppo non tutti i dirigenti hanno il peso che probabilmente l'ADS che ha parlato prima ha avuto io mi sono trovata mille mille volte a contendere con i miei superiori per avere diritti minimi riconosciuti ai miei allievi quindi questo penso che sia importantissimo riprendendo però agli interventi precedenti volevo dire a livello di diritti il titolo del libro parla parla mio nome scuolitudine nasce proprio dalla necessità di capire quanto io da insegnante e quanto Matteo da insegnante ci siamo trovati a volte soli soli a scuola a combattere battaglie per i nostri allievi e con i nostri allievi non avendo strumenti necessari per ripristinare un clima che ha a mio parere a nostro parere è necessario per insegnare e insegnare è proprio quello che ci hanno spiegato loro prima uno scambio impariamo e insegniamo se non c'è questa comunità non c'è scuola a mio parere quindi diritti negati io ne vedo tantissimi questo mi fa soffrire particolarmente in realtà scuolitudine cioè il sentirsi soli a scuola non è certamente una cosa che riguarda solo noi insegnanti riguarda tutto il personale della scuola ma riguarda soprattutto i nostri ragazzi perché prima emergeva questa solitudine dei ragazzi che non vengono ascoltati se i ragazzi non vengono ascoltati è impossibile che imparino almeno questo proprio l'ho provato nei miei 24 anni di insegnamento quindi diritti negati secondo me purtroppo questo bivio che ci allontana dalla democrazia a scuola può purtroppo tradursi in tanti diritti negati io volevo dire mi sono venuti tantissime idee mentre parlavate avrei voluto intervenire mille volte ma lo facciamo dopo lo facciamo dopo con il dibattito va bene prof saudino quindi sette storie di ragazze e ragazzi che la scuola in questo caso voi avete deciso di scrivere così nel libro li ha saputi aiutare ma è stata l'istituzione scuola che li ha aiutati oppure la forza del docente dei docenti la scuola italiana si fonda ancora sulla buona volontà del singolo docente o dei singoli docenti che decidono di collaborare e dare vita magari a sperimentazioni come il caso dell'esperienza prima raccontata però abbiamo avuto la necessità di raccontare delle storie a lieto fine proprio per darci la carica per darci il giusto carburante perché dall'incontro di oggi dobbiamo uscire con la voglia di cambiarla la fotografia della scuola italiana è una fotografia di un malato grave poi possiamo raccontarci quello che vogliamo la scuola italiana è malatissima perché? perché perché la scuola italiana è la scuola classista come ce ne sono poche in Europa è molto più classista di quella francese di quella olandese di quella spagnola di quella dei paesi del nord cioè in Italia la mobilità sociale è bassissima le scuole tendono a reiterare le divisioni e le ingiustizie di classe presente nel nostro paese poi no non ce lo vogliamo dire ce lo diciamo poco quando parliamo di scuola in televisione abbiamo giornalisti che hanno fatto il liceo classico ministri che hanno fatto il liceo classico conduttori che hanno fatto il liceo classico che parlano di scuola pensando che la scuola sia il liceo classico a cui vanno il 4% degli abitanti io ci insegno e a volte quando faccio i discorsi in classe con loro ci vediamo che molto banalmente molto banalmente nelle mie classi non c'è il figlio di un operaio neanche morto di un impiegato addirittura non c'è quasi più di un cassiere di un magazziniero non c'è allora di cosa stiamo parlando stiamo parlando di una scuola in cui a partire dalla tua appartenenza di classe del lavoro che fanno i tuoi genitori scegli tendenzialmente il percorso e badate non sono quei due genietti della matematica che sono passati dall'essere addirittura sottoproletariato a diventare geni ad Oxford che fanno la statistica quei due bambini quei due ragazzi probabilmente messi di fronte a un computer o lanciandogli dei giochi sarebbero riusciti perché ci sono anche dei talenti naturali non sono sui talenti naturali sui dieci che noi misuriamo la capacità dei docenti ma su quella fascia media che ormai è una fascia molto grigia di ragazzi demotivati e poi è lì le statistiche ce lo racconto in tutte le direzioni cioè le capacità di comprensione di un testo sono sempre più basse perché vuol dire che non riusciamo a lavorare e poi ci sono i ragazzi che hanno il picco quelli che appunto se ne vanno in giro per l'Europa la fuga dei cervelli e questo ovviamente a proposito di democrazia se io non comprendo un testo sono tagliato fuori totalmente anche dal mio diritto di essere un cittadino e non basta chiamare i tecnici i professionali liceo del made in Italy non possiamo cadere in trucchi di macchiaggio di bassa lega c'è un problema che la scuola va proprio ripensata va ripensata nel profondo i ragazzi debbono parlare di più interagire un apprendimento laboratoriale devono esprimersi devono leggere devono scrivere non devono ascoltare soltanto ore e ore di lezione come avviene già dalle medie in avanti i ragazzi dalle medie in avanti o qualcosa della primaria secondo me si può salvare ma dalle medie in avanti otto insegnanti su dieci riverseranno contenuti su contenuti su contenuti che loro dovranno ripetere o utilizzare in una verifica io che sono figlio di quella scuola lì mi è anche piaciuta è chiaro ma io ero uno di quelli che amava amava studiare va bene e non tutte le materie ma ora per mille motivi gli input esterni il mondo è veloce hanno in tasca molti più stimoli rispetto il mio io che ero un ragazzo di campagna che andava a scuola e apprendeva più di quello che c'era in televisione dunque la scuola mi dava di più per loro non dà di più allora una scuola pensata su un modello veramente crociano gentiliano e ve lo dice chi fa storie della filosofia ma può funzionare per alcuni ragazzi un modello gentiliano nel 2023 non funziona più devo avere il coraggio di dircelo se no continuiamo a ripetere ci viene una favola che di ripeto non funziona è dal trono e abbiamo iniziato proprio con non so se si sente abbiamo iniziato con il botto non so se mi sentite mi sentite e abbiamo iniziato ecco lei ha ripreso anche il senso del video che è stato proposto all'inizio e la cosa bella è che noi abbiamo qui due osservatori privilegiati che sono nel mondo della scuola oramai da oltre vent'anni con esperienze alle spalle molto diverse quindi il professor Saudino parlava della sua esperienza in un liceo torinese del centro poi parlava delle scuole medie forse laddove poi iniziano i problemi e Chiara invece insegna insegnato spesso in altri contesti scolastici quindi è interessante anche ascoltare il tuo punto di vista ma soprattutto per portare avanti il discorso alla fine ce le diciamo da anni queste cose noi sì siamo la comunità educante possiamo continuare a fare questi dibattiti ecco e che altro ci rimane da fare sì io e Matteo appunto abbiamo anche questo privilegio di poterci confrontare su due ordini di scuola diversi ma anche su due zone di Torino molto diverse quindi al di là del proprio dell'ordine grado di scuola io sono in periferia e infatti ho fatto decine di relazioni al dottor Ghibaudi e Matteo in pieno centro in un liceo la differenza abissale ma noi diciamo anche che non si può quasi parlare di scuola italiana perché i contesti sono talmente diversi quindi all'interno proprio della stessa città tra centro periferia eccetera non starò qua a citare esempi veramente drammatici di come si chiama De Pian volantini di scuole dove si specifica feste raccolta fondi qua non ci sono stranieri qua non ci sono davvero anche disabili c'era stato il caso in cui è stato specificato anche questo cose che vanno male ovviamente la scuola è una scuola del genovese ha ritirato immediatamente quella frase ma il fatto che qualcuno nella scuola per attirare gli studenti vada a specificare che non ci sono disabili è chiaro che fa capire la mentalità di quel gruppo dirigente scolastico no? Sì è molto sì fa molto pensare ecco diciamo che poi volevo anche raccontarvi che il libro è scritto a lettere proprio per questo noi questo libro l'abbiamo scritto durante il periodo del covid dove ovviamente essendo esseri umani avevamo le nostre preoccupazioni i nostri affanni e volevamo scegliere delle storie che hanno segnato la nostra vita da insegnanti che ci sono e anche come esseri umani non solo da insegnanti e ricordare a noi stessi quanto questo mestiere che è veramente bellissimo ma difficilissimo e ogni anno è più difficile e complesso possa riservare veramente delle sorprese dei finali positivi quindi abbiamo scelto queste storie che sono diciamo così quattro arrivano dalle scuole secondarie di primo grado e tre dalla secondaria di secondo grado in cui emergono veramente problemi che sono unici nel senso che ovviamente sono riferiti a persone che noi abbiamo incontrato e che sono reali a cui abbiamo cambiato ovviamente i nomi e l'identità però sono anche presentano problematiche che ovviamente molti colleghi avranno ritrovato nelle proprie scuole i problemi che emergono sono giganteschi indipendentemente appunto dal tipo di scuola in cui sono emersi nel senso quello che voglio dire è lui insegna in centro torino in un liceo classico eppure i problemi emersi ci sono e come da me ce ne sono davvero sono all'ordine del giorno e voglio dire anche a proposito di diritti privati e negati forse non avessimo in classe 24 25 persone che invece singolarmente meriterebbero un'attenzione quasi totale allora già il discorso cambierebbe profondamente allora io ne approfitto Chiara per una comunicazione di servizio se c'è Fabrizio perché chiudono se non sbaglio fra un quarto d'ora per la vendita dei libri e quindi forse intanto se voi avete voglia di acquistare tra l'altro ci sono delle copie qui all'ingresso lo dovete fare entro le 19 e 15 perché dopo i professori Saudino e Foa saranno a vostra disposizione per il firma copie quindi non so invece dirigente se si può chiedere anche alle ragazze eventualmente se c'è Fabrizio di portarli qui non so bene non c'è più se al limite si possono avvicinare così loro non escono quindi prof dicevamo non esiste un modello di scuola italiana spesso nello stesso istituto io devo dire anche personalmente quando sono venuta qui su Torino ho iscritto i miei due figli in un istituto comprensivo uno alla media un altro alla primaria stesso plesso con veramente problematiche modelli di didattica così diversi da un piano all'altro e con problemi da una parte non ce n'erano dall'altra parte la mia seconda figlia ha affrontato problemi che mi hanno portato a dire alla dirigente mi sembra di essere in scuole di diversi quartieri della città non esistono ma esiste sempre come abbiamo detto ma non possiamo continuare ad andare avanti la forza dei docenti e per esempio nel libro c'è uno dei tanti racconti quello che lei racconta di questo ragazzo che si è trasferito se non ricordo male da Frossinone a Torino che viene in qualche modo a dei problemi che forse la vuole fare anche finita lei viene avvisato durante le vacanze di Natale si scatena la forza dei docenti ed inizia un collegio di docenti a distanza via mail che poi porta diciamo a prendere in carico la situazione si il libro racconta di storie di allievi prima del covid e dunque in modo tale da rimanere anche ad anonimato questi miei racconti sono degli anni precedenti vanno dal 2005 prima del 2015 in tante scuole che ho avuto anche la fortuna di vedere per tutto Torino e provincia perché secondo me se non fosse figlio di un precariato estenuante il cambiare scuole è arricchente sia per gli studenti sia per gli insegnanti il problema è che anche qui ci sono insegnanti spesso anche quelli magari molto bravi cioè che hanno molta esperienza perché l'esperienza conta molto nell'insegnamento l'insegnamento è un mestiere che si impara anche facendo è importante la teoria è importante la didattica la decimologia è importante fare tanti corsi ma poi c'è la pratica e cosa succede è che molte volte gli insegnanti un po' più anche esperti vanno ad ubicarsi in alcune scuole che funzionano meglio con più risorse con meno problemi per anche il quieto vivere dunque le scuole un po' più difficili hanno veramente difficoltà vi faccio un esempio io ero a Sassare a fare una lezione spettacola ad un festival il mattino ho fatto il giro del liceo sono stato in un liceo e mi hanno fatto in un liceo scientifico della periferia lo scorso ero stato a Sassari nel liceo a Zuni nel centro il liceo dove l'alta anche borghese di Sassari da Berlinguer a Segni a Cossiga non sembrava la stessa città la stessa umanità voi non riuscite neanche a capire quel liceo di periferia aveva delle strutture aveva un'edilizia che era veramente simile una cotta di cemento in periferia che sembrava metà tra il carcere e un ospedale invece il liceo a Zuni in centro un edificio storico dove proprio lo stesso ingresso a scuola dà vita a delle modalità emozionali diverse Matteo scusami devo intervenire assolutamente per darvi un dato perché io quando ho ricercato questi dati sono rimasta veramente basita allora quasi metà degli edifici scolastici a livello italiano che sono numero elevatissimo perché partiamo dalla scuola materna fino ai licei non ha l'agibilità ce l'ha in deroga ogni anno c'è una firma che permette quindi stiamo parlando di edifici che non sono solo brutti perché in certi casi sono davvero bruttissimi ma sono pericolosi e pericolanti e sono il luogo dove mettiamo appunto i nostri promettenti giovani del futuro e che dovrebbero in questi luoghi imparare l'amore e il rispetto per la cosa pubblica per i beni pubblici questo volevo volevo veramente solo fare questo intervento perché sono sono dati che dovrebbero farci pensare se a questo aggiungiamo so che adesso c'è questa fotografia legativa per questo abbiamo fatto poi un libro di uscita di successo perché abbiamo bisogno di raccontarci le cose che funzionano anche però poi serve un bagno di realismo io che giro praticamente ogni fine settimana l'Italia ma non esiste la scuola italiana ok ma poi tra il nord e il sud parliamo di differenze abissali nei mezzi di trasporto ad esempio dei paesini della provincia per andare a scuola le ore trascorse aspettando pullman con treni che non ci sono e le conseguenze sono che di fatto non puoi fare quasi sport perché quel viaggio che tu impieghi per andare a scuola è un viaggio che è sottratto a un'attività sportiva e dunque per tornare alla tua domanda e vado in sintesi in chiusura quella storia l'ho raccontata perché abbiamo purtroppo anche un tasso di ragazzi che vanno in depressione purtroppo a volte ci sono anche dei suicidi a volte la scuola non riesce a intercettare questo malessere perché è difficile è difficile quando c'è qualche spia uno tende anche a dire ma non lo farà tanto per hanno poi una pacca sulle spalle gli amici invece noi dobbiamo stare molto attenti perché i segnali di malessere sono tanti l'autolesionismo l'anoressia la bulimia il mutismo selettivo oppure un certo tipo di assenze in quel caso era un ragazzo che di fatto era arrivato da un'altra scuola e cosa accade a volte nel passaggio c'è già un consiglio di classe che fa che dire questo ragazzo da dove arriva ma non è la sua scuola questa allora quando a ottobre novembre si comincia a dire vabbè tanto non è la sua scuola cosa produce quella cosa lì non produce altro che la realizzazione di quella prospettiva già negativa cioè ci ripetiamo non è fatto per la matematica non è fatto per questa scuola non è fatto per la scuola quel ragazzo 9 su 10 a giugno è bocciato perché già i docenti sono raccontati che tanto non era la loro scuola magari non era la loro scuola poi qualcuno vede a capire qual è proprio la loro scuola però serve qualcos'altro serve dire proviamo ad attivare anche delle altre didattiche degli altri stimoli e quell'anno quel ragazzo che aveva tutta una serie di insufficienze gravissime nel primo trimestre siamo riusciti con una serie di interventi valorizzando dei progetti spezzando il programma cambiando la metodologia ci sono ragazzi che magari in un'ora otto esercizi dico numeri a caso non li fanno e prendono cinque in un'ora e mezza con otto esercizi arriverebbero a sei e mezzo ma qual è il voto cinque o sei e mezzo siamo qui sicuro che è l'ora il tempo che la docimologia ci stabilisce che serve per poter arrivare a sufficienza non lo so ci sono molto ignoranti in questo però le griglie cioè le griglie le griglie veramente vanno bene per fare la grigliata la nostra battaglia contro le griglie non posso emergere ogni persona è diversa prima si parlava anche del setting di come sono seduti i nostri ragazzi e lo diceva il professor Gobbi se ricordo bene il nome e quindi va ripensata ma io ho la sensazione che a ripensarla e a struggerci la mente siamo più noi che chi dovrebbe ripensarla sì e ti aggiungo una cosa l'Italia che ha una grande crisi nato cioè proprio crisi la greco trasformazione così come ce l'ha la Francia perché la Francia ha un vantaggio rispetto a noi che l'edilizia le strutture ci sono delle scuole nelle banlie che da noi sarebbero degli hotel 5 stelle la scuola la Francia investe tanto nello sport ad esempio molte scuole hanno le piscine ma le motivazioni la voglia di studiare l'inclusività anche la Francia patisce anche noi abbiamo la piscina Matteo quando piove quando piove i ragazzi tedeschi vogliono mangiare il Wüst le patatine amano le auto i bolidi e vogliono andare a vedere il Bayer o il Borussia non è che dice oi ragazzi tedeschi e anche loro hanno problemi di forte motivazione però gli studi tecnici avranno dei laboratori più dunque su queste cose ok abbiamo dei paesi magari più virtuosi ma sulle motivazioni la voglia di andare a scuola non c'è veramente il paese modello è chiaro dunque dobbiamo anche costruircelo in questo momento ma costruirlo implica fatica errori ed è lì che sorge il conservatorismo scusate ma io non c'è l'ho già fatto quest'estate io lo devo dire questa cosa qua lo sai già dove voglio arrivare gli italiani leggono poco va bene ma purtroppo quest'anno hanno deciso di leggere hanno deciso di leggere un libro di un generale che cosa ci dice che la scuola chiedono una sola cosa prof non lo citiamo non lo citiamo ma un tempo i ragazzi non erano in crisi perché tornavano a casa e c'erano le mamme che le accoglievano che i ragazzi si alzavano in piedi quando l'insegnante salutava cosa vuol dire che oggi la scuola è in crisi poi che è difficile affrontarla produciamo un passato in cui che non era vero perché le ragazze non avevano questa opportunità perché i figli di chi era povera Cristo era ancora più escluso ma un'Italia dove sembrava che alzarsi in piedi il saluto all'insegnante fosse un'Italia dove ci fosse più diritto inclusione dove i ragazzi andavano meglio non c'era l'abbandono non c'era il bullismo questo è il nostro errore di costruire un passato mitico che portava tanta sofferenza per tante persone e produrlo come un modello verso il quale andare ma non torniamo indietro perché TikTok sarà sempre di più l'intelligenza artificiale che piaccia a noi sarà il futuro dunque o la governiamo o la capiamo o ci relazioniamo o altrimenti facciamo proprio il canto del cigno e ogni giorno ci ripetiamo ah ma com'era bello quando si raccontava una favola intorno al fuoco ma guardate ah non so se esisteva veramente e poi erano obbligati molti bambini a starsi e ascoltare una favola che magari non volevano venivano anche menati no? è veramente un mito presi e bacchettati presi per l'orecchio bisogna guardare non era proprio l'eldorado dal canto del cigno adesso volevo chiedere anche a Chiara un perché noi questo abbinamento Elisa di Chiara col canto del cigno ti ringrazio tantissimo vado oltre vado oltre il canto del cigno pensano che è una ballerina Chiara vado oltre siccome il tempo stringe del libro noi racconteremo pochissimo perché appunto una storia ci siamo avvicinati quella del professor Saudino adesso una storia della professoressa Foa o Foa? Foa Foa no dimmi bene l'accento no c'è Foa ah c'è l'accento il papà no e lei sì è una storia lunga e per questo io non capivo ok Foa allora parleremo poco delle storie perché sono storie veramente intense che in questo contesto ci possono essere di aiuto per quello che è il filo conduttore della serata ma appunto proprio perché rimane ancora un quarto d'ora è bene che chi vuole può acquistare il libro e poi si può fermare sicuramente con i due autori della tra tutte le tue storie mi piaceva raccontare forse presentare in piccola parte quella più tremenda quella più difficile quella che ci porta in uno scenario addirittura di abusi di abusi familiari ma non parleremo di questo parleremo invece di come la docente in quel caso va oltre il contratto oltre ogni ostacolo e va a fare scuola a domicilio va a fare scuola a domicilio e anche lì se qualcosa ha funzionato e perché ha preso in carico non lo studente solo dal punto di vista cognitivo intellettivo non solo per trasferire delle nozioni ma a tutto tondo e quindi quella ecco è una storia veramente che lascia il segno sì io prima ho un pochino introdotto questa cosa dicendo che queste queste storie è stato importante anche per noi forse a livello terapeutico scriverlo perché sono storie che comunque ti investono totalmente come persona e ti cambiano e l'incontro con questo ragazzo che nella storia è Alessandro ma alla fine anche con l'altro ragazzo Anis che appunto in realtà viene ci sono due diversi storie di come possiamo dire sì di abusi senza dubbio uno più palese uno più indiretto andare a casa loro conoscere la famiglia dove tu sai determinate cose e non puoi dire non puoi parlare ecco io su tutto questo volevo dire una cosa c'è a livello proprio di intervento dell'insegnante è una cosa che mi turba tantissimo e cioè molto spesso noi vorremmo aiutare i ragazzi a confidarsi quando siamo fortunatissimi lo fanno con noi però obiettivamente non credo che sia bravura nostra anche tanta fortuna cioè umanamente tu ti poni davanti a loro disarmata con voglia di ascoltare e non giudicare ma non è detto che la persona che hai davanti sia disposta ad aprirsi e a raccontarti ogni tanto succede questo è meraviglioso e noi appunto andiamo incontro tra l'altro con le nostre possibilità perché anche noi siamo esseri umani e spesso non siamo formati dal punto di vista della psicologia quindi anche dobbiamo stare attentissimi a non fare danno perché no perché comunque lo strumento non lo possediamo da professionisti però umanamente certamente ci apriamo all'esperienza quello che volevo dire io in questa sede è questa molte volte nella mia scuolitudine mi sono sentita bloccata dal fatto che purtroppo quando vuoi aiutare i ragazzi anche a confrontarsi con un professionista quindi guidarlo ad aprirsi non solo con noi col gruppo dei pari ma anche proprio a intraprendere un percorso psicologico purtroppo avendo a che fare con minori abbiamo sempre bisogno dell'autorizzazione dei genitori questa è una cosa che a me ha sempre un po' spaventato chiaramente perché come sappiamo benissimo statisticamente la maggior parte delle violenze purtroppo viene perpetrata all'interno del nucleo familiare questa è una considerazione che avevo voglia di fare davanti appunto a persone che sono dell'ambito certamente si può passare di fianco con questi ragazzi che citavi prima siamo andati a casa loro abbiamo fatto lezioni li abbiamo lasciati parlare tantissimo hanno trovato loro la mediazione che intendevano prima i ragazzi proiettavano le slide ovviamente il primo principio non c'è nessun tipo di giudizio di peso però sei sempre davanti a una persona che per il resto delle ore ti insegna italiano storia e geografia quindi comunque una posizione un po' delicata io chiudo anche se non c'entra molto con forse con la risoluzione di queste storie che fortunatamente vi anticipo che finiscono bene e non sempre purtroppo è così volevo dire che questa comunità educante noi l'abbiamo messo come sottotitolo al nostro libro sono storie di passioni resistenti non è facile uscire dal proprio ruolo non è facile perdere la motivazione non è facile diventare un burocrate cioè non è facile non diventare un burocrate perché travolti da griglie triglie quadriglie moduli da compilare burocrazia che non c'entra nulla con il nostro impegno di insegnanti ed educatori a volte davvero la motivazione scende un po' non è facile la passione deve essere stra resistente perché a tua volta troverai tantissimi ostacoli sulla tua strada che sono ostacoli anche banalmente davvero normativi come questo che sembra una stupidaggine però è un freno gigantesco trovi l'impossibilità di fare una fotocopia sembra stupido ma come fai il bambino non ha il libro come puoi insegnarli una collega un giorno mi disse questo bisogna bocciarlo non si è mai collegato durante il covid ho detto ce l'aveva il computer no vabbè perfetto non si è mai collegato nessuno gli ha dato il computer quindi insomma la riflessione come dire siamo su una strada che è ancora tanto tanto in salita bisogna assolutamente spendersi la passione resistente è una cosa che non bisogna perdere mai perché l'insegnante che non ha quella cosa che noi chiamiamo filosoficamente l'eros del docente viene travolto e non è più non è più davvero d'aiuto ai propri ai propri studenti è bello che la comunità cioè chi mi dicevate sta seduto lì chi è obbligato davvero sei ore a star seduto con colleghi che dicono ma l'intervallo glielo facciamo fare in piedi no dove glielo facciamo fare seduti legati alla sedia non lo so gli ostacoli sono ancora tanti la strada è ancora lunga ma secondo me con la passione resistente con questo eros dell'insegnamento tutti assieme dal basso possiamo farcela prof lei portatore sano di passione resistente che tra l'altro dissemina in Italia insomma basta andare sui suoi profili oramai folle di studenti che la seguono questo ci riempie il cuore perché sappiamo che vengono ad ascoltare un pensiero che in parte in gran parte condividiamo ma il filo conduttore di questo viaggio che inizia oggi al circolo dei lettori che poi avrà un appuntamento mensile è la scuola che vorrei se dovesse dirmi lei ecco quella che vorrebbe in sintesi ma il fatto che la divulgazione goda di buona salute è un buon segnale c'è comunque sempre stata e penso sempre ci sarà anche un'altra Italia quella che non si ferma soltanto a una serie anche di programmi magari più trash che possono essere divertentissimi c'è un'Italia che magari non si ferma soltanto a una rappresentazione a volte anche patetica di consumo no c'è sempre un'Italia che va a sarzare il festival della mente carpi e modere i canali di divulgatori e qua noi ne abbiamo anche tanti di divulgatori dunque gode di buona salute vuol dire che c'è una voglia allora io partendo da lì dal fatto che questa voglia c'è dico la scuola che cosa deve portare beh la scuola deve portare comunque contenuti io lavoro le superiori cioè i contenuti sono importanti io sto facendo un po' di storia del secondo novecento chiaramente io ho una condizione anche privilegiata per il motivo che dicevo prima mezzi strumenti a disposizione però attenzione in certi licei che noi consideriamo licei bene termine terribile brutto c'è anche il ragazzo c'è anche la comprensione di ragazzi annoiati perché tanto più o meno delle cose le abbiamo e nulla ci scalfisce invece mi sono accorto che lavorando su contenuti ad esempio più contemporanei sia di storia di filosofia l'interesse cresce la scoperta dell'acqua calda no sì non lo so però noi dobbiamo portare nella scuola anche il presente e ve lo dice uno che è cresciuto in quella scuola impostazione ghigliana storicista gramsciana e mi è piaciuto e ancora mi piace conoscere le vite l'ordine delle opere dei filosofi dopodiché dopodiché io non posso finire il programma con la seconda guerra mondiale non posso far sì che la filosofia finisse con Freud che tra l'altro io l'adoro ma non è probabilmente neanche un filosofo cosa voglio dire quel mondo che c'è fuori lo dobbiamo portare dentro attenzione che non vuol dire appiattire il passato sul presente perché il passato è il passato e il presente è il presente vuol dire arricchire il passato con il presente e il presente con il passato cioè devono essere collegati e allora le storie che facciamo la filosofia che facciamo l'arte che facciamo e su due esempi ma vale per la scienza quest'estate avete visto un film porca miseria Oppenheimer a un certo punto vi sarete accorti che in quel film la scienza e la filosofia si intrecciano che l'etica la responsabilità allora chiedo i colleghi di scienze ma si potrà fare anche una scienza che ogni tanto apre questioni etiche della chat GPT etiche delle armi nucleari etiche dell'energia così io parlo delle superiori ovviamente così magari ragazzi anziché dire qua c'è il programma vabbè l'interrogazione o quello che dice anche bene sì così 8 o 9 perché poi sono mille motivi magari gli altri dicono ah sai cos'è c'è questo tema e mi riguarda perché e chiudo se loro quando entrano a scuola sanno che tutto il loro mondo rimane fuori dalla porta ebbene allora l'interesse non c'è e prevale un atteggiamento passivo se non addirittura nichilismo ma di nichilismo tornerò a parlare altre volte e comunque rimane il grande male della nostra società e quindi molto chiare le sue parole io chiedo a Fabrizio che vedo lì noi possiamo andare ancora avanti con una domanda a testa e poi facciamo il dibattito benissimo allora Chiara usciamo dall'aula e quindi i nostri figli che sono a casa che sono a fare le attività sportive che sono per strada è quello che succede fuori dall'aula quindi prendo ad esempio alcune forme di preoccupazione che sono recenti gli orinatoi a forma di bocca in una palestra di Torino nei bagni dei maschi poi spesso ci troviamo e ci imbattiamo in frasi illegibili del branco online e offline abbiamo purtroppo episodi di violenza di femminicidi di stupri allora siamo in emergenza educativa ma guarda sì siamo in emergenza educativa no allora lo scambio tra il dentro e fuori è un po' quello che diceva diceva Matteo a volte c'è un un gap gigantesco tra chi sta in cattedra e può fare la sua lezione indipendentemente da chi ha davanti senza considerare l'essere umano che si trova lì davanti ma quello stesso ragazzo fuori ha tutto il contesto che si porta dentro ogni giorno come ce l'ha l'insegnante quindi siamo proprio a livello di creare una comunità che è molto allargata allora come fare però perché questa è una bella domanda allora io per esempio penso che io ricordo che insegno appunto in una secondaria di primo grado quest'anno essendo un istituto comprensivo quindi con la scuola primaria e la secondaria di primo grado abbiamo lanciato dei percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale perché se non ne parliamo noi davvero rischiamo che non se ne parli o se ne parli in maniera aggressiva con questo tipo di conflitto per cui l'anno scorso abbiamo avuto ragazzini che si prendevano botte perché non so durante un gioco un maschietto aveva dato un bacio ad un altro maschio no? e figurati no? questa cosa del omofilia mamma mia cioè lì proprio scoppiano le bombe poi l'insulto alla mamma insomma siamo ancora a livelli per cui di lavoro ce n'è come aprirsi a questo tipo di percorsi al di fuori del giudizio anche riuscendo a coinvolgere come diceva qualcuno negli interventi precedenti le famiglie perché l'ultima volta che io ho avuto una discussione con una famiglia perché il ragazzino in questione aveva detto delle cose terribili alla compagna no? io ho convocato la famiglia e la mamma mi ha detto eh sì in effetti queste frasi le ha sentite da me quindi no? diventava difficile no? esatto quindi assolutamente per me ecco questa è la via che penso che possa essere percorribile coinvolgere nella comunità educante le famiglie perché molto spesso molto spesso le famiglie non vengono perché giudicano la scuola come una cosa un nemico una cosa altra questi hanno mio figlio prigioniero e gli vogliono fare del male noi alcuni genitori nell'arco di tre anni o di cinque più tre non li vediamo mai no? e succede in realtà anche a livello appunto purtroppo dei servizi territoriali l'ultima volta che ho contattato un neuropsichiatra molto bravo di cui ho anche stima mi ha detto scusami avresti una foto dell'allievo ho detto ma caspita è in cura da te devo portarti una foto dell'allievo ma a sua volta questo dottore aveva in cura non so quanti ragazzi cioè c'è tutta una comunità che deve funzionare intorno quindi lo scambio deve essere assolutamente totale è reciproco altrimenti come dici tu se noi andiamo avanti con il nostro mini prima Matteo parlava di programmi devo arrivare lì devo arrivare là noi fortunatamente adesso davvero nella scuola dell'obbligo chi ha il coraggio diciamo di oltrepassare questa didattica super tradizionale e e lancia e condivide una didattica fuori classe portiamoli fuori portiamoli in montagna portiamoli al mare portiamoli a teatro portiamoli al cinema perché la loro esperienza deve essere un'esperienza più varia possibile perché quando hanno conosciuto il brutto e hanno conosciuto il bello poi possono scegliere con tutti i mezzi critici che gli diamo noi che li aiutiamo a formarsi e mentre se li formano appunto noi siamo siamo con loro a a a non so come dire non c'è giudizio però queste cose con loro le possiamo condividere possiamo ragionare con loro perché i ragazzini quando li li lasciamo con ragazzini non intendevo un giudizio negativo intendo i nostri studenti lasciati a ragionare su problematiche sono fantastici io derisco questo progetto di Save the Children fuori classe appunto in movimento ma le proposte che ci fanno alla fine dell'anno concordandole con i dirigenti sono meravigliose noi non le avremmo mai pensate sono molto più avanti di noi quindi questo scambio assolutamente ci deve essere e come dici tu è necessario per superare questa emergenza educativa mi colpisce quando dici il coraggio di fare una scuola che va oltre quella tradizionale ecco e mi chiedo se appunto negli anni in cui siamo ci vuole il coraggio del singolo oppure appunto qualcosa di più strutturato poi sappiamo che ci sono tante esperienze di scuola anche codificati che vanno un po' oltre i modelli tradizionali ma quello che diceva Chiara mi fa venire in mente quella cultura del rispetto per ricondurci un po' ai temi iniziali la mediazione dei conflitti quindi il rapporto le relazioni la cultura del rispetto dovrebbe essere un must prof nelle scuole nelle classi se non lo è lei come la costruisce come si come si fa tutto giusto non dobbiamo però pensare che la scuola sia in cielo la scuola in terra e dunque la scuola è lo specchio della società cioè noi possiamo produrre una scuola iperuranica come modello archetipo da provare a realizzare perfetto dopodiché questa scuola deve diventare non so un'isola verso cui andare ma nella realtà noi ci troviamo di fronte a una scuola che lo specchio è una società molto meno rispettosa torno al discorso che facevo prima un rispetto coercitivo può anche piacerci può funzionare ma non produce il famoso autoritarismo una maturazione della società perché l'insegnante deve essere autorevole e non autoritario molte volte non essendo autorevole ricade nel suo autoritario la nota sospensione e molti provvedimenti la valutazione il 4 il 3 il 2 come punitivo e molte volte di fronte a difficoltà l'insegnante si rifugia lì come cambiare le cose te ne do conto noi proviamo a cambiare la scuola ma non è che poi cambiamo la società servirebbe un cambiamento molto molto più ampio ma qui ti ripeto non c'è nessun paese che riesce a portarlo avanti siamo una società molto molto più non violenta di un tempo nello spararci nell'ucciderci a Torino la violenza politica la violenza delinquenziale criminale è nettamente in calo non è paragonabile quella degli anni 70 negli anni 80 ci sono altre cose però c'è molto bullismo molta violenza verbale molta indifferenza molta proprio superficialità questo è un problema io faccio un caso chiaro Fede sta male è impressionante la gente che va sotto e gli augura di morire che non è dire perché magari appunto una rapina a mano armata negli anni 70 fa sì che a Torino uscivamo qua di strada e qualcuno ci ammazzava dunque sempre evitare di dire un tempo ah un tempo però oggi qualcosa è accaduto ad esempio sui social nelle chat dei ragazzi c'è una violenza verso quelli che vengono esclusi tolti da una chat che noi potremmo liquidare dicendo vabbè dai non lo invitano alla festa gli dicono ma non imporre quel ragazzino lì sta malissimo in questo siamo veramente molto più violenti per alcuni aspetti molto meno rispettosi e la rispetta è una pratica è una pratica che deve partire dalla politica degli artisti degli influencer da tante cose invece noi pensiamo di insegnare questo rispetto ancora con la punizione con la censura con delle pratiche che non incidono realmente nella crescita dei ragazzi allora io e qua chiudo veramente così poi vogliamo sparare anche allora se è un piacere anche se il dibattito sembra subito di Corazzata Cotionchi e di Fantozzi la responsabilità cioè scusate a costo di andare in conto con dei fallimenti la nostra scuola dà poca responsabilità ai ragazzi non fanno quasi progetti in autonomia qualche anno fa si parlava addirittura di avere l'autorizzazione di avere qualcuno all'uscita dalla prima o dalla seconda media no ma attenzione attenzione non possono mai stare a scuola da soli lo capisco allora c'è magari un personale ma se stanno anche un attimo in classe da soli ah perché poi rovinano sporcano e allora con l'idea rovinano sporcano gli mezzi non possono usarli perché altrimenti li rompono chiudiamo la scuola ma non hanno mai una responsabilità cioè non hanno una responsabilità addirittura a scuola quelli che erano 18 anni non basti l'autonomia ma devono comunque in alcune scuole portare la giustificazione avvisare ma non crescono mai questi ragazzi se non hanno un momento in cui possono sbagliare e stanno anche da soli cioè c'è questa idea che le famiglie pensano che per crescere sia mettere una cappa no controllare tutto non è il controllo che fa crescere ma un rapporto di responsabilità cioè queste maledette anche app è ovvio ci hanno facilito la vita perché noi giustifichiamo i nostri figli con l'app che abbiamo di spaggiare eccetera eccetera però la prima cosa che facciamo è andiamo a vedere il voto che hanno preso la media che hanno così lei torna a casa non le devono anche chiedere come è andato latino greco biologia fisica tanto io l'ho già visto lì cioè ci giochiamo anche una crescita nel rapporto genitore e figli perché lo abbiamo raffreddato con la tecnologia io veramente invito proprio sempre a ricordarci questo la tecnologia è un mezzo non è un fine ma per indicare i fini servono delle persone che li abbiano questi fini serve una visione di vita per andare verso un fine altrimenti ci limitiamo ad accumulare i dadi i cubetti uno sopra l'altro grazie grazie